... il ritmo del gruppo Maglia Rosa e questi sono i corridori in testa alla gara. Paolo Bettini, oggi in Maglia Ciclamino dopo il ritiro di Robby McEwen. La composizione, con l'aiuto della grafica anche, del trappello di testa. Ripetiamo, sono in 19 quando mancano ormai 80 km al traguardo. Tiralongo, Parra, Rujano, Bellotti e Cauchioli, Belli, Gonzales, Aitor Gonzales, Orrak, Caruso, Noè, Valiavez, Garrido, Bettini, Rasmussen, Garate, Lobato, Rodriguez, Kessler e Schafrat. I migliori in classifica generale tra coloro che sono in fuga sono Juan Manuel Garate che è dodicesimo a 6,48. Cauchioli, quindicesimo a 7,16. Rujano, diciottesimo a 8,26. E Kessler, ventunesimo a 8,59. Dunque è normale che il gruppo abbia lasciato fare, però non possono assumere proporzioni troppo elevate lì davanti. Parliamo di secondi e minuti. Ed è per questo che la CSC ha tenuto a debita distanza i fugitivi. Eccolo qua, è cominciato il passo delle erbe. È subito molto impegnativo e c'è un po' di attesa tra i corridori al comando. Silvio Martinello, benvenuto anche a te. Un bel ritrovati a tutti, anche noi dal mezzo regia siamo qui pronti per riuscire a proporre a chi ci sta guardando tutto ciò che di bello questa giornata ci può offrire. Questo gruppetto in fuga c'è anche Paolo Bettini, ventesimo in classifica generale a 8,51. Hai ricordato poc'anzi, Auro, coloro che sono meglio piazzati in classifica. Tra questi c'è anche Paolo Bettini che, insomma, anche oggi con molto coraggio si è portato all'attacco. Il suo obiettivo ormai è chiaro, è quello di portare la maglia ciclamino a Milano. Oggi avrà la possibilità, dopo il passo delle erbe, all'intergiro di conquistare qualche punto. A meno che questi non vengano raggiunti prima, ma non credo. Anche se sul passo delle erbe tutti ci aspettiamo chiaramente che i protagonisti, i grandi protagonisti per la classifica generale comincino ad entrare in azione. La situazione dunque da Radio Corsa, Professor Fagnani a lei. Sì, buon poperiggio anche da Radio Informazioni. Siamo ormai a 14 chilometri dal Gran Premio della Montagna di Passo delle Erbe. Stiamo sempre costeggiando il torrente Gadera lungo questa valle che poi termina Brunico. e la valle di Corvara, la Valbadia. Il vantaggio è di 7 primi e 28 secondi, cronometrato in località Pedracies. La media dopo 4 ore è 32,700. Da segnalare che Ventoso, che si è ritirato, in realtà era ripartito dopo la caduta, ha raggiunto la località di rifornimento a Corvara e qui ha deciso di ritirarsi. Nella stessa caduta è rimasto coinvolto anche il numero 173, Christensen, il concorrente della Quickstep, che invece è ripartito e ci risulta ancora in gara. Abbiamo il piacere di avere in postazione una delle 20 selezionatissime guide alpine, qui della Var Gardena, Flavio Moroder. Il Passo delle Erbe, a detta di tutti, è uno dei paesaggi più belli delle Dolomiti. Sì, buongiorno anche da parte mia e grazie dell'invito. È senz'altro uno dei passi e diciamo anche poi il Passo delle Erbe di per sé. Non è conosciutissimo, quindi è bene presentarlo al pubblico. Sì, perché solitamente più conosciute sono le zone, diciamo, quelle che sono anche magari che hanno più impianti e così. Il Passo delle Erbe è ancora uno dei passi che è molto naturale, dove è veramente splendido d'estate poter fare le proprie passeggiate. Una salita divisa in due tronconi, quindi sei chilometri di ascesa, poi tre in leggera discesa e poi un'altra rampa durissima. Sì, io penso che per un corridore deve essere una salita difficilissima. Bene, grazie a Moroder che ci accompagnerà man mano che vedremo delle immagini di queste rocce, di queste montagne ormai mitiche. Le sculture della... Determinanti per un uomo al comando che poi dovrà affrontare la scalata facendo testa a testa, sicuramente con Ivan Basso che reputo che sia un pochino improbabile che si metta lui a fare il ritmo sul Passo delle Erbe. Cercherà, se si vuole comunque scegliere una strategia tattica ideale, di salvare almeno Zabrischi o qualcuno degli uomini che gli possono stare vicino, almeno un paio di uomini, per farsi accompagnare fino a sotto Ortisei e da quel momento lì in poi vedremo un Basso che a mio giudizio potrebbe tranquillamente fare un cronometro sperando di provare a mettere in difficoltà un palo Savoldelli. Che l'ipotesi diversa dovrebbe essere colui che riuscirebbe a isolare Ivan Basso in salita facendo muovere Joachim o qualcuno della sua squadra e poi continuare questa azione in discesa. Intanto il gruppo ha recuperato qualcosa in questo tratto di strada all'attacco di Passo delle Erbe, il ritardo del gruppo è sceso di una ventina di secondi sino ai 7 minuti e 5 secondi. Ivan Basso nelle primissime posizioni, Damiano Cunego con il numero 1 e ci aspettiamo segnali di riscatto, di riscossa anche da parte del piccolo principe. Oggi doveva provare ad attaccare, quello si chissà se lo avrebbero lasciato andare e Cunego ha perso quel treno e intanto facciamo un altro mini spot. Uliveto ti aiuta a digerire meglio e a vivere in forma. Uliveto, acqua della salute. Prego Francesco. Damiano per essere utile a se stè. Si sta allungando il gruppo sia quello dei Battistrada che il plotone Magliarosa. In leggera difficoltà abbiamo notato il veronese Bellotti, con lui c'è il compagno di squadra nonché conterraneo Pietro Cauchioli che arrivò al terzo nel Giro 2002. Subito in gara nuovamente con Fabretti. A te Alessandro. E anche il plotone della Magliarosa si è diviso in due tronconi. Nel secondo troncone tra gli altri Filippo Pozzato e Julio Alberto Pérez Quabio che aveva promesso che oggi avrebbe fatto una grande corsa, una grande tappa. In realtà come confermano anche la sua pedalata, beh una grande tappa non l'ha fatto. Risaliamo e troviamo Krauss, la Magliazzurra e poi il resto del plotone. Ecco il gruppo che è stato descritto da Fabretti. Non va dimenticato. ...le rampe di questo arcigno passo delle erbe. Abbiamo visto che si va frazionando anche il gruppo di testa. Alcuni corridori hanno perso contatto tra Costoro, anche lo spagnolo Garrido, l'altra terra della Quick Step oltre a Paolo Bettini che fa parte del gruppo di testa. E si fa davvero male questa... 1998, plan di Montecampione. Questa è l'immagine che ci fa vedere il nostro regista. ...a quel punto poco oltre quelle Castello inizia il tratto in discesa. Si scende per 2,5 chilometri sino a quota 1394. Poi in corrispondenza... ...porazioni per Pantolo. ...Ryu d'Antermoia. Inizia un nuovo tratto di salita molto dura sino proprio ad Antermoia. Pendenze di nuovo molto dure attorno al 15%. Andrea Peron scandisce il passo. Un passo regolare in testa al gruppo. Michel Blauzun in seconda posizione. Selezione implacabile lungo questa salita. In difficoltà il leader della classifica dell'Intergiro, Sven Kraus. Sono sempre meno. Si diceva che fosse debole, debole. Damiano Cunego con Gilberto Simoni. Quindi appena è cominciata la salita, dopo poco, appena un chilometro, Cunego e Simoni. Eh sì, questo è il tentativo dei due capitani. Ormai Damiano Cunego è distanziato in classifica generale. Cunego e Gilberto Simoni. C'è accordo tra i due, secondo chilometro di ascesa. Dunque la prima fiammata ad opera dei Lampre Caffita. Due giorni fa a Zoldo Alto la Lampre aveva sostenuto un ritmo molto alto. Poi Cunego era andato in difficoltà sul passo Duran. Oggi viceversa la Lampre è rimasta indietro. E il tentativo è operato proprio da Cunego e Simoni. Accordo perfetto tra i due. Eccolo qui Gilberto Simoni. L'aveva annunciato. Non ho nulla da perdere e cercherò l'impossibile. Sa che questa è la salita più dura di questa tappa, di questo tappone dolomitico. E appena le pendenze hanno superato il 10%, ha lanciato Damiano Cunico, si è messo la ruota e adesso sta cercando di mettere in difficoltà Ivan Basso. Fabretti, la prima fiammata sul passo dell'erba, a te. Eh, la prima fiammata ha fatto male. C'era un gregario di Ivan Basso nel dita avanti che ha accettato lo scatto del suo capitano. Ivan Basso per il momento non ha risposto, almeno nelle prime pedalate. Silvio Martinello, come giudichi questo tentativo per adesso? Ma avevano promesso che non si accontentano, che Gilberto Simoni non si accontenterà assolutamente di un piazzamento. È la prima occasione utile in questa durissima salita. Stanno tentando di far saltare il banco. Damiano Cunico, che vediamo in queste pedalate, senza dubbio, lo vediamo con una pedalata molto più sciolta rispetto a quella che aveva sul passo Duran l'altro giorno. Questo fa ben sperare, perché se Damiano Cunico fosse in grado di ritornare in condizioni discrete, potrebbe essere un elemento sicuramente chiave nella strategia della Lampre Caffita, naturalmente nel tentativo di agevolare Simoni. Torniamo con le immagini sul gruppo, perché ci sono due atleti della CSC, ma la maglia rosa, ovvero Ivan Basso, procede un po' troppo indietro. È intorno alla quindicesima posizione del gruppo. Potrebbe essere tranquillamente una tattica, quella di Ivan Basso, però accanto a sé, ha i due compagni, ma l'ha davanti. Quindi potrebbe anche essere un primo segnale di crisi. Non pronunciamoci, perché di salita ce n'è ancora tanta. Fatto sta che Ivan Basso non ha risposto all'attacco, ma non ha compagni accanto a sé. Fabretti. Sì, è solo Ivan Basso e davanti ci sono i due suoi compagni di squadra. Quindi due compagni di squadra avanti al gruppo che lo comprende. E poi molto molto più indietro Ivan Basso, che per il momento sta procedendo del suo passo. Attenzione perché Savoldelli si è accorto della posizione di Ivan Basso e sta cercando di tastarne il polso. Non è una buona posizione per Ivan Basso e quindi potrebbe in questo momento attraversare un momento particolare, ma lo scopriremo tra un pochino. Guardiamo. Non mi sembra molto in affanno, ma... Davanti a lui c'è Aitor Osa. È sempre bene non prendere posizioni, non giudicare azioni e fasi di questo tipo, perché Lance Armstrong quattro anni fa fece una cosa simile prima dell'Alpe Dwez. Si fece sfilare, tutti pensavano che fosse in crisi, poi recuperò Surry che staccò tutti. Quindi, attenzione, siamo ancora all'inizio di questa salita. Non è un basso che si è staccato, è semplicemente un basso che non ha accanto a sé dei compagni di squadra. Eccolo inquadrato, quindi è presto per dare eventuali sentenze. È solo l'inizio. Lui questa salita la conosce molto bene, perché l'ha affrontata in un paio di occasioni. Sa che questo primo tratto è abbastanza difficile, ma sa soprattutto che il secondo tratto è molto più difficile. Preferisce probabilmente salire con il proprio passo, non ha risposto all'attacco di Cunego e Simoni, che sono ancora al comando. Mi sembra un po' legnosa la pedalata di Cunego, molto meglio quella di Simoni. Fatto sta che Damiano Cunego si è messo al servizio di Gilberto Simoni. E questa è un'immagine che fa bene al ciclismo, fa bene a questa squadra. Vuol dire che quelle che erano le fratture interne, i dissidi, eventuali incompressioni, si sono ripianate. E adesso lavorano in comune accordo. Ed è soprattutto Damiano Cunego che sta cercando di lanciare il suo capitano, Gilberto Simoni. Minispot per noi. Correndo al servizio di Gilberto Simoni, che è più avanti di lui in classifica. Giusto così i due stanno unendo i loro sforzi. E pensare che sulla carta potevano essere proprio loro due, i grandi due lanti per la vittoria finale, secondo alcuni, e invece non è così. Hanno unito, stanno unendo i loro sforzi in nome della causa comune. Ivan Bastos si è intanto nel frattempo riportato nel drappello. Io con tutto il rispetto che possa avere per gli avversari di Ivan, credo che sembra che si stia prendendo un pochino gioco di loro. Si è accorto di rimanere senza squadra, ha fatto finta di essere in difficoltà per dare coraggio ai suoi avversari nel gestire il ritmo all'inseguimento dell'amperca fitta. E' una cosa che... I minori che con Ivan Basso compongono il gruppo dei migliori. Adesso, se mi date ancora un minuto, io la prendo questa composizione e poi ve la do. Perfetto. Adesso un pochino... Mentre Damiano Cunego ha innestato un rapporto più agile. Si, adesso la sua pedalata è migliore anche perché qui le pendenze sono un po' più agevoli. E abbiamo visto poc'anzi gli uomini della Liquigas a scandire il ritmo, ma come vedete Ivan Basso sta arrivando. Come vi dicevo, conosce benissimo questa salita. L'ha preferito partire tranquillo, con un rapporto abbastanza agile. E adesso è ritornato davanti. In effetti, non dava l'impressione di essere in sofferenza. Hanno 18 secondi Cunego e Simoni sul resto del drappello degli uomini di classifica. Abbiamo visto bene Danilo Di Luca, poi Dario Davide Cioni, c'è anche Atienza. Ma non dimentichiamoci che là davanti, con un vantaggio ancora superiore ai 5 minuti, ci sono sempre 19 che però si stanno frazionando. Si sono già staccati Garrido, Gonzales, Bellotti, Bettini e Schaffrat. A te, Alessandro. Allora, io ho calcolato questi corridori. Della Panaria Navigare, Sella e Pozzo Vivo. Della Confidista Tienza, della Gredita Agricola Algan, poi della Vita Monlotto Ardila, quindi Van Uffel, poi della Discovery Channel Savoldelli. Intanto sta rientrando della Liquigas Micho Lievitz, dopo Savoldelli della Domina Vacanze Gonciar e Celestino, poi della Euskal Teloskadi Sanchez, intanto sta rientrando anche Petrov, della Lampre Caffita, abbiamo detto Sanchez, poi della Fassavortolo Brusegin, della Ghelosteider-Foten, della Iparear Carpez e Unai Ossa, della Liberty Seguros Gurt Gil Perez e Scarponi, della Liquigas Pianti di Luca, Cioni e appunto Mikolievicz insieme a Veghelius, della Fonag Zampieri, del CZC Basso, Schleck e Zabriski. Prendetela col beneficio dell'inventario, però dovrebbero essere queste. E adesso Ivan si è riportato in terza posizione, alle spalle di Zabriski e Schleck. Sta correndo alla Lenz-Amstrong, non sta, o meglio, alla Indurain, in quanto non sta reagendo agli scatti, sa che di chilometri ce ne sono ancora tanti, sia per arrivare in cima a questa salita, sia che per raggiungere il traguardo, perché dal Gran Premo della Montagna mancheranno ancora 57 chilometri. Adesso c'è questo attacco degli uomini della Lampre, Caffitta stanno guadagnando, perché vedete Basso sta controllando la situazione, è ritornato con Zabriski e Schleck in testa al gruppo, e mi sembra che stia pedalando ancora molto, molto bene Danilo Di Luca. E infatti l'uomo in bianco, il leader del Pro Tour, Danilo Di Luca, grande protagonista in questo Giro d'Italia, vuole ormai arrivare a Milano e possibilmente mantenere la posizione sul podio. Grande l'azione di Schleck e Zabrinski che stanno scandendo il passo. Tutta la squadra CSC è al servizio di Ivan Basso, prima hanno lavorato i vari Blauzun, Lombardi e Peron, adesso è la volta dell'americano Zabrinski con il lussemburghese Franz Schleck. 25 secondi, il vantaggio di Cunego e Gilberto Simoni sul gruppo Maglia Rosa, mentre i battistrada hanno sempre 5 minuti e mezzo da gestire. Quarto chilometro, passo delle erbe. Quarto chilometro per questi due corridori, vedete Damiano Cunego che sta controllando, adesso qui le pennesi sono ancora un po' difficili, ma come vi ho detto prima il tratto più impegnativo è il secondo, gli ultimi 6 chilometri. Due primi e 27, deve recuperare in classifica Gilberto Simoni che è quarto, mentre Damiano Cunego è più indietro a 7 primi e 20 secondi in sedicesima posizione. Alessandro, quanti sono con Ivan Basso? Non parlo dei due suoi compagni di squadra che li vediamo, ma in tutto una quindicina quel gruppo? No, abbiamo detto una ventina, no? Ah, siamo a 20, perfetto. Si sono staccati adesso Steve Zampieri, Marco Celestino e Eugenio Petrov, però sono rimasti 19, adesso calcolo il presidente non ce l'ho. Ok, ok, ok. Li vediamo dall'alto, comunque aggiornaci se qualcuno dovesse staccarsi. Per Ivan Basso è importante non perdere con i due compagni di squadra perché ci sono tanti chilometri per andare al traguardo e se spreme troppo Zabrisky e Schleck si ritroverebbe solo e sarebbe attaccabile e quindi per lui importante è tenere lì i due uomini dall'amprica fit ma soprattutto non spompare i due compagni di squadra che saranno utilissimi nel tratto che dalla vetta del pasto delle erbe porterà a Ponte Gardena dove comincerà l'ultima salita. Sta correndo con grande maturità oserei dire da padrone del Giro d'Italia ma è da apprezzare e da sostenere il coraggiosissimo tentativo operato dai due della Lampre ovvero Damiano Cunego e Gilberto Simoni. Primo piano per Zabrisky il vincitore della Cronometro è alle spalle di Schleck eccolo qua come formazioni la Liquigas è quella meglio composta lì nel gruppo Maglia Rosa ci sono Di Luca Mikoljevic e Veghelius oltretutto ci hanno Noè in fuga che potrebbe dare una mano più avanti. Purtroppo Cunego e Simoni non hanno compagni di squadra davanti vi ricordate lo scorso anno la tappa di Falzes l'attacco di Cunego sul Furcia poi Tonti e Mastoleni che attesero il compagno di squadra e tirarono tutto il tratto pianeggiante beh in questo frangente questi due corridori non possono usufruire di eventuali aiuti perché non hanno compagni di squadra né davanti né con loro assieme a Di Van Basso quindi devono fare tutto con le proprie forze con le proprie gambe Fabretti a te Lievitz è rimasto indietro mentre non ha citato Cioni che invece di davanti perfetto quindi c'è anche Cioni oppure c'era un errore di numero Cioni è con Di Luca e c'è anche Veghelius ce lo confermi vero della Liquigas esattamente Veghelius è in ultima ruota mentre Cioni accanto oppure subito dietro Danilo Di Luca perfetto grazie Alessandro vedete che hanno un po' di paura continuano a voltarsi indietro non sanno se spingere a fondo non sanno se tenere un po' di energie fatto sta che adesso la CSC sta facendo sul serio ed il vantaggio dei due uomini della lamprica fitta è leggermente diminuito non c'hanno non ha compagni di squadra nemmeno Paolo Savoldelli non parliamo di Scarponi che è accanto proprio al corridore Bergamasco è una contesa ormai uomo contro uomo Scarponi dovrebbe avere ancora Gil Perez ma non sappiamo fino a che punto l'atleta di Pamplona potrà dare una mano a Michele Scarponi il marchigiano Scarponi questa è la testa della corsa un tentativo nato al 25esimo chilometro di gara dopo continui attacchi scatti ma il plotone ripetiamo sempre condotto dalla CSC ha lasciato al massimo un vantaggio di 8 minuti cuneco cuneco e simoni sono nel tratto in discesa che porta i corridori al secondo troncone di questa salita basso delle erbe fabretti la sensazione che aveva avuto dopo lo scatto di Simone Cuneco era stata quella di un Ivan Basso che aveva chiesto ai suoi corridori di non andare a riprendere i due che erano andati in fuga per il momento non gli interessava infatti credo che anche quando Savoldelli ha provato un pochino a rialzarsi immediatamente ma fosse un portato su Paolo Savoldelli quindi non è assolutamente crisi ma è una scelta tattica ben precisa erano stati i suoi due uomini che erano insieme con lui appunto Zabriske e Schleck che volevano andare a riprendere Damiano Cuneco e Gilberto Simoni ma non certamente Ivan Basso vedete 4.45 tra la testa della corsa Cuneco e Simoni 5.05 sul gruppo Maglia Rosa la salute innanzitutto va bene il Giro d'Italia ma rischi che siano eccessivi per la salute mai e poi mai rivedremo comunque Garzelli con grandi probabilità alla via del Tour de France lo ha in pratica ufficializzato lui stesso stamattina nel momento in cui lasciava il la coppia Garrido e Rodriguez a 4.20 la coppia con Simoni e Cuneco a 4.45 il gruppo Maglia Rosa gruppo di Ivan Basso a 5 minuti e 5 secondi dunque al professor Fagnani chiediamo la composizione del gruppo che è rimasto davanti quindi la testa della corsa erano all'inizio della salita del passo dell'Erby in 19 ma mi sembra che ormai siano rimasti 7-8 concorrenti non di più li vediamo inquadrati con Garate uomo di classifica della Sonie Duval c'è anche Tadej Valjavec c'è Vladimir Belli Paolo Tiralongo Cauchioli lo vediamo con la maglia blu Caruso poi Kessler Andrea Noè Orrak Parra e naturalmente la maglia verde Rujano questa è la testa della corsa e Bettini è segnalato a 30 secondi anche il gruppo Maglia Rosa è nel tratto in discesa una discesa abbastanza ripida ma che permetterà ai corridori di prendere fiato ma tra meno di un chilometro la strada ritornerà ad alzarsi sotto i pedali dei corridori e come vedete Basso sta correndo con grande intelligenza tattica lo ripetiamo non può perdere quei due compagni di squadra perché altrimenti sarebbe attaccabile è meglio che lasci i due uomini della lampra là in testa con qualche secondo di vantaggio potrebbero anche guadagnare 30-40 secondi ma c'è talmente tanto spazio dalla cima per arrivare sotto il Ponte Gardena che corridori come Zabrinski e Schleck diventano fondamentali il giro si vince col coraggio con tentativi anche da lontano ma soprattutto e Lance Armstrong insegna si vince con la squadra e con le tattiche mentre il drappello di testa ha un vantaggio di una trentina di secondi nei confronti di Bettini Bellotti e Schaffrat che hanno perso le ruote del drappello del quale facevano parte Simoni e Cunego a 4 minuti e 45 secondi ritardo dunque di poco superiore invece ai 5 minuti per il gruppo Maglia Rosa torniamo in testa Ruben Lovato Elvira corridore spagnolo della Sonia Duval una Sonia Duval che si sta davvero ben comportando al giro di Catalogna ieri si è svolta la si è fiammata la corsa Auro Simoni e Cunego stanno facendo alla grande la loro parte allo stesso modo alla grande la sta facendo mentre Simoni e Cunego hanno raggiunto due che facevano parte del gruppetto di testa che non riusciamo ancora a individuare si dovrebbero essere Garrido e Rodriguez esatto Garrido e Rodriguez allo stesso modo sta facendo una grande corsa molto intelligente come abbiamo già avuto modo di sottolineare Ivan Basso che si sta muovendo da padrone di questo giro è chiaro che Simoni soprattutto ha il dovere credo che entro breve li salteranno e credo che questa tappa sia un calvario adesso per chi faceva parte del gruppo di testa e ha perso contatto insomma non ne ha più ci sono tanti uomini ancora in Lins perdonatemi in inseguimento del gruppo per cui si potrà tranquillamente aspettare il gruppetto salire con regolarità con il rapporto più agile possibile fino a scollinare sul passo delle erbe e poi andare insieme a questi fino a sotto Ortisei di nuovo un tratto molto impegnativo di salita e sarà adesso così in pratica in pratica sino alla vetta una salita davvero importante questo passo delle erbe la montagna pantani di questo giro d'Italia vedremo chi scollinerà in testa chi insomma si aggiudicherà questo speciale trofeo per onorare la memoria del pirata una grande tappa in questo momento corridori che entrano in una zona suggestiva in una zona di abeti siamo tornati con i battistrada Rasmussen ha perso contatto rimangono tiralongo Parra Rujano vedete Caruso c'è Orrak Andrea Noè Garate Lobato Kessler Bettini è a 40 secondi mentre a 4 minuti li vediamo Gilberto Simoni Damiano Cunego e i due ex fuggitivi ovvero Garrido e Rodriguez Rodriguez che ha lavorato tantissimo in precedenza adesso sta lavorando Lobato sono corridori della Sonia Duval la squadra di Garate Garate che è arrivato quarto nel giro d'Italia di tre anni fa è arrivato nono lo scorso anno e adesso è lì a ruota è il corridore posizionato meglio in classifica dodicesimo ed è per questo che Lobato sta cercando di tenere il ritmo elevato proprio per lanciare Garate suo compagno di squadra Moroder adesso è il secondo tratto quello più duro del passo delle erbe sì sì per noi è incredibile vedere adesso sti scalatori perché noi solitamente anche se portiamo i clienti al passo erbe per magari scalare il puttia allora andiamo in macchina e già lì diciamo sempre ma com'è ripido sto passo com'è ripido adesso vedere come salgono e a questo ritmo è veramente incredibile sì stanno andando su veloci con un rapporto molto agile 39-23 proprio perché la pendenza è intorno al 10% ci sono delle punte al 14-15% mentre dall'elicottero vediamo sempre il gruppo di Ivan Basso gruppo forte di 17-18 unità Fabretti a te io voglio fare complimenti a un neoprofessionista come Domenico Pozzovivo che ancora lì nel gruppetto dei migliori e sta lottando con i denti e poi vedo molto bene Michele Scarponi che appunto ha Rusca accanto suo compagno di squadra della Liberty World insomma due italiani che si stanno mettendo luce insieme grandissimi giuste queste segnalazioni bisogna sostenere apprezzare gli sforzi di questi giovani che rappresentano il futuro del nostro movimento ciclistico soprattutto Domenico Pozzovivo come ha detto giustamente Alessandro Fabretti è il primo anno tra i professionisti l'anno scorso lo hai già citato tante volte quarto ai mondiali un ragazzo bravissimo l'unico professionista lucano un Pozzovivo che riesce a tenere il gruppo dei migliori e da segnalare anche la presenza di questo Frank Schleck corridore lussemburghese pensate che suo papà è stato professionista per 12 anni ed è stato gregario di Anketil e negli ultimi anni della carriera parlo sempre del padre di Frank Schleck è stato anche gregario di Walter Godefrode eccolo qua sulla destra Frank Schleck Silvio Martinello l'attacco di Cunego e Simoni apprezzabile coraggioso ma non mi sembra siano in grado di fare il vuoto fino adesso li mantengono lì a 30 secondi no Auro l'impressione che hai tu la condivido effettivamente non riescono a fare un vuoto importante sembra che Ivan Basso con i suoi due formidabili compagni di squadra sia in grado di controllare agevolmente la situazione comunque al di là di quello che sta accadendo in questo momento credo che sia da apprezzare da sottolineare il coraggio che Simoni e soprattutto la voglia di riscatto di Cunego dopo la debacle dell'altro giorno ecco importante questo perché il giro non è assolutamente finito hanno il dovere di tentare hanno il dovere di provare perlomeno a trovare in difficoltà Ivan Basso che se non ci provano mai riusciranno a capire se riescono a pescarlo in un momento di difficoltà per il momento Ivan è sostenuto prima di tutto da una squadra perfetta e oggi lo sta dimostrando che hanno lavorato tutto il giorno sono riusciti a controllare la corsa in modo impeccabile e questo è un buon segnale perché fino ad ora avevamo visto una CSC un po' in ombra e soprattutto lui continua ad essere senza dubbio e continua a confermarlo giorno dopo giorno il vero padrone di questo giro fino a questo momento se Nazareno Ballani ripropone la grafica del cardio dei due corridori Tiralongo e Milesi possiamo far capire ai telespettatori quanto sia importante controllare le pulsazioni cardiache abbiamo visto Milesi che aveva le pulsazioni abbastanza basse perché? perché è staccato perché è nel gruppetto anche Tiralongo vedete è al 91% del massimale in pratica è in soglia lui vedete avrebbe ancora 16 pulsazioni da spendere ma non può farlo perché la salita è molto lunga perché se oltrepassa le 165 167 pulsazioni andrebbe fuori soglia vuol dire accumulo di acido lattico vuol dire che si potrebbe tenere per un chilometro un chilometro e mezzo forse due ma poi sarebbe costretto a mollare e quindi deve salire a questa frequenza che viene chiamata frequenza di soglia proprio quella frequenza che permette sì di salire senza accumulo di acido lattico Ardila Savoldelli Vanuffel Algan Pozzovivo Sergei Gonciar vediamo sulla sinistra Unai Osa corridore della Isole Baleari terzo al Giro d'Italia del 2001 poi Cioni Di Luca Veghelius Schleck Zabrinski molto forte questo atleta americano di Salt Lake City Zabrinski grande cronomen e non solo competitivo anche in salita come vediamo sì non solo forte a cronometro ma forte anche in salita adesso stanno faticando un po' vedete che il ritmo è diminuito vedete come adesso sono sono fitti gli atleti vuol dire che la velocità è leggermente diminuita e quindi Cunego e Simoni in questo tratto potrebbero guadagnare qualcosina più passa nei giorni e più va applaudito il comportamento la resa di Danilo di Luca già all'inizio di aprile a tutta ha vinto il giro dei paesi baschi poi ha vinto le classiche al nord in testa la classifica del Pro Put Tour due frazioni vinte qui al giro Maglia Rosa sta tenendo duro anche sulle montagne davvero un un applauso a Danilo di Luca Fabretti a te ho fatto rilevamento cronometrico tra i due Cunego e Simoni e il gruppo Maglia Rosa è rimasto tale e quale 20 secondi in ritardo sono pochi sono pochi staremo a vedere perché di chilometri ne mancano ancora tanti quindi è un gioco ancora apertissimo vedete qui non è che stiano andando molto veloci non perché vanno piano ma perché le pendenze sono molto molto ripide intanto ringrazio Alessandra De Stefano che ormai ne sa più di me e mi dice che Schleck il papà è stato gregario di Jan Jansen alla Pelford e di Luiz Socagna alla BIC quindi oltre ad essere stato gregario di Luiz Socagna è stato anche gregario di Jan Jansen grande campione del passato poi ha un fratello più piccolo che sembra che vada fortissimo più di Frank sì in corridore di 20 anni e sembra che vada molto di più di Frank e poi un'altra notizia te la do io ieri per caso mentre chiedevo dove si trovasse un albergo qui a Ortisei ho incontrato un signore mi ha detto ah sì lei la conosco io sono amico di Schleck che viene proprio qui in Val Gardena spesso ad allenarsi quindi evidentemente conosce alla perfezione queste salite Schleck il lusseburghese come le conosce Ivan Basso ha fatto in ricognizione questa tappa pensate che quel giorno si è affrontato tutte le salite poi l'ultima quella che porta qui ad Ortisei l'ha fatta due volte quindi è salito è sceso in bicicletta e l'ha fatta una seconda volta e qui le leggende si immaginano Marco si ricorda lo ricordiamo questa salita è dedicata a Marco Pantani prosegue l'azione mentre vediamo Ivan Basso sempre a ruota dei suoi compagni di squadra davanti ci sono Tiralongo Parra Rujano Cauchioli Belli Orrac Caruso Noè Valiavez Garate Lobato e Kessler all'inizio della salita avevano più di sette minuti di vantaggio l'ultima segnalazione parlava di quattro minuti ma perderanno ulteriormente in questi ultimi chilometri verso i 2000 metri d'altezza di Passo delle Erbe perderanno sì perderanno anche tanto perché ormai la corsa si è accesa ormai è scoppiata non mi sembra che sia scoppiato Ivan Basso sta cercando di controllare adesso c'è solamente un corridore suo compagno di squadra davanti ma anche Schleck è lì in terza posizione perché al comando c'è Zaprinski abbiamo segnalato grazie a Fabretti la presenza di Pozzovivo il corridore Lucano nel gruppo Maglia Rosa ma con lui c'è anche il capitano della ceramica panaria a navigare quell'Emanuele Sella che l'anno scorso fece una delle più belle imprese al Giro d'Italia vincendo la tappa di Ceseno un Sella che sta tenendo bene che sta crescendo giorno dopo giorno non era in buone condizioni fisiche a Reggio Calabria colpa una bronchite un po' trascurata ha cominciato questo giro in sordina ma si è ripreso molto bene non dimentichiamolo è al secondo anno tra i professionisti ed è non in classifica generale eccole qua molto più affaticata la faccia di Damiano Cunego sembra abbastanza rassicurante quella di Ivan Basso Silvio Martinello in due giorni si può smaltire una cotta sempre che di cotta si possa parlare un Cunego in grossa difficoltà sul passo Duran oggi a far da spalla a Simoni ma oggi Damiano Cunego ci sta dimostrando che si può perché lo vediamo all'attacco chiaramente non riesce a fare la differenza ma per lui credo sia già importante riuscire a far capire e riuscire a far capire soprattutto a se stesso di poter essere ancora lì con i migliori perché in effetti è lì che sta salendo allo stesso passo di Ivan Basso e del gruppo di migliori è chiaro che Ivan Basso non si sta producendo mentre vediamo Francesco Guidoli con il miglior piazzamento in classifica tra quelli in testa dodicesimo a 6 minuti e 48 secondi non c'è più ormai da tempo Sven Krauss il leader dell'intergiro addirittura risucchiato e saltato anche dal gruppo Maglia Rosa dovrebbe essere l'attacco però insomma credo che sia che sia già importante vedere Damiano Cunego recuperato credo che il fatto proprio di essersi liberato come ha avuto modo di dire lui di questo peso psicologico gli stia facilitando il compito ora non ha più nulla da perdere ed è qui che sta tentando di porre anche lui un timbro in questa 88esima edizione del giro andando all'attacco su una delle salite più importanti della corsa intanto Cunego e Simoni hanno raggiunto Hitor Gonzales che rinfuga sin dal mattino a te Fabretti comunque non hanno guadagnato perché l'ultimo rilevamento che ho effettuato parla di 20 secondi volevo segnalare che nel gruppo della Maglia Rosa invece è rientrato un bravissimo Mirko Celestino che adesso è con loro e bravo Mirko e bravo anche Lobato è sempre lui in testa a scandire il passo lo sta facendo per Garate suo compagno di squadra che cerca di spendere il meno possibile anche Parra Ivan Parra in seconda posizione della Colombia Selle Italia è lì che dovrebbe aiutare Rujano a vincere anche questo gran primo della montagna e penso che non abbia difficoltà a farlo José Rujano della Colombia Selle Italia classe 1982 assolutamente una scoperta qui al Giro d'Italia lui che si era già messo in evidenza oltre a Oceano la Vuelta Tacira o Tacira non so come si pronuncia esattamente però per lui già quattro vittorie stagionali l'anno scorso José Rujano correva sempre nella Colombia Selle Italia ma complice un infortunio un problema a un ginocchio ha corso molto poco solamente ad inizio stagione penso che sia stato operato è riuscito a riprendersi e lo vediamo perché in questo Giro d'Italia è uno tra i più brillanti in salita sempre con la maglia gialla il secondo vediamo Garate capitano della Sonier Duval Prodir formazione diretta da Pietro Algeri non forzano né Cunego né Simone hanno capito che 20 secondi è un vantaggio minimo quindi preferiscono risparmiare energie per poi eventualmente dare tutto sull'ultima salita verso Ortisei i battistrada sono vicini alla vetta mentre il gruppo è a un chilometro e sette vero Alessandro? proprio così a un chilometro e sette dalla vetta e hanno lì davanti il gruppetto di Cunego e Sigmoni precedentemente pochi istanti fa Cunego si è voltato per capire dove fosse la Maglia Rosa ha percepito che è lì e allora forse anche la situazione si è fatta meno impegnativa in discesa probabilmente il gruppo di Van Basso rientrerà in queste situazioni non sai cosa fare non sai se dare tutto o se tenere qualche cosa non sai se proseguire o se aspettare il gruppo Maglia Rosa sono momenti importanti uno qui può può giocarsi un giro di taglia non tanto Cunego perché il giro se l'è già giocato l'altro giorno a soldo alto quanto Simoni che come promesso ha attaccato forse ha attaccato un po' troppo presto se io fossi stato lui aveva atteso questo tratto questi ultimi sei chilometri avrei dato una botta secca invece ha preferito fare un attacco all'inizio della salita sta di fatto che la generosità non gli è mancata neanche oggi applausi per tutti molti tifosi sono qui già da ieri hanno posteggiato dove è possibile camper e macchine per applaudire e gioire al passaggio della carovana del giro e in particolare per gli attori protagonisti siamo sul passo delle erbe ormai in vetta 2004 metri sul livello del mare si chiama Wurzenjoch in tedesco fa la volata Garate questa volta vince Garate secondo arriva Rujano adesso ci sono tre chilometri di discesa poi un'altra salitella che porta al passo Eures poi dopo questa nuova salita la lunga discesa che porta verso Pressanone passa anche Vladimir Belli che aveva perso leggermente contatto negli ultimi chilometri di salita adesso verificheremo il vantaggio della testa della corsa che in località San Martino in Badia aveva ancora sette minuti di margine ma dovrebbero averne persi almeno molti quattro e mezzo si ne hanno persi tanti comunque vado a finire oggi Damiano ha dimostrato di essere un corridore vero no? perché aveva una pressione enorme è crollato l'anno scorso aveva vinto il giro di taglio l'anno scorso gli riuscì tutto con grande facilità quest'anno ha pagato una giornata no ma ha saputo reagire e secondo me la crisi dell'altro giorno ha fatto sì che questo ragazzo possa ritrovare quella quella freddezza quella sicurezza che gli hanno permesso l'anno scorso di vincere il giro d'Italia quindi complimenti a Damiano Cunico che si è messo al servizio di Gilberto Simone la volata di Garate al Gran Premio della Montagna Silvio come la valuti forse ha detto ma come ha tirato per tutta la salita il mio compagno di squadra e poi vuoi passare tu al venezuelano forse è questa l'interpretazione l'interpretazione è questa però Rujano l'abbiamo visto molto arrabbiato perché era lì davanti che era convinto di poter passare primo sulla linea del Gran Premio della Montagna con facilità come era successo come già era accaduto negli altri passi negli altri colli affrontati oggi invece Garate è scattato un centinaio di metri abbiamo visto Rujano che gli ha fatto un gesto con la mano che non era che non era proprio un gesto di complimenti insomma Alessandro quanto manca la vetta per il gruppo Magliarosa meno di un chilometro 800 metri poco o meno grazie dunque sentiamo i passaggi sul passo delle erbe sì questi passaggi al Gran Premio della Montagna di prima categoria di passo delle erbe dopo 161 chilometri a quota 2004 primo Garate numero 191 quindi Rujano numero 43 terzo Parra quarto Valiave che è quinto Cauchioli mentre a un chilometro dalla vetta il ritardo di Cunego e Simoni era di 5 minuti e 18 secondi in compagnia di Aitor Gonzales gruppo a 5.32 eccolo qua il gruppo Magliarosa che va a riprendere Cunego e Simoni dunque uno sforzo notevole per i due della Lampre e Caffitta vanificato praticamente in cima Alessandro è proprio così in questo momento si era percepito che il vantaggio dei due non andava aumentando anzi andava scemando e adesso ha ripresi la strada non è particolarmente impegnativa in questo momento la salita intorno al 6-7% tanta gente tanta festa uomini e tifosi italiani ma non solo tanti tanti stranieri benvenuto al mister grande appassionato di ciclismo Francesco Guidolin una tappa attesissima a quella di oggi il controllo autorevole di Ivan Basso si io sono arrivato adesso oggi ero sul percorso ho visto tantissima gente sul Sella sul Gardena giornata meravigliosa meravigliosa per il ciclismo come sempre e adesso si giocano tutto nella salita finale perché questo attacco è stato bellissimo di Cunego e Simoni ma mi sembra che autorevolmente con il viralo battle mi ero un po' incartato per qualche secondo stia per arrivare in cima all'appasso dell'erbe anche il gruppo Magliarosa del quale adesso fanno parte anche Damiano Cunego e Gilberto Simoni rischiano a questo punto Simoni e Cunego di pagare qualcosa sulla salita finale io credo che Simoni non abbia affatto fatica per quello da un pedalare non spingeva non era cattivo credo che l'azione sia con tuo rispetto Cunego ancora di più Ivan e qualche altro ragazzo che si stanno mettendo in mostra che si stanno mettendo in luce il ciclismo italiano ha bisogno di corridori capaci di vincere le corse a tappe ritengo Ivan Basso il corridore favorito il più preparato perché ha fatto l'università del ciclismo lui non si è mai cimentato negli ultimi anni al Giro d'Italia ha fatto sempre il tour e tenere la ruota di Armstrong credo che sia proprio il massimo degli esami da sostenere ora in un gruppo dove non c'è il fenomeno americano credo che Basso possa essere il padrone o comunque il principale protagonista della Corsa Rosa grazie a Francesco Guidolin Alessandro siete in cima oramai? beh quasi in cima che festa guarda incredibile tantissimi tifosi a salutare le nostre telecamere lì sull'ericottero e mi sembra che sia anche un tifo molto molto corretto tutti quanti sul cilio della strada nessuno prova ad entrare dentro la strada e a disturbare i corridori anche nel solo tentativo di aiutarli molto corretti molti preparati molto preparati se il Tour de France è l'università del ciclismo beh questi signori hanno studiato molto bene nel frattempo scorre il cronometro e ancora il gruppo Maglia Rosa non è transitato sul passo delle erbe quindi significa che i battistrada hanno nuovamente guadagnato secondi e potrebbe a questo punto anche raggiungere il traguardo la fuga da lontano che inizialmente vedeva 21 corridori adesso un drappello ridotto a 12 uomini ma ci sono corridori forti quindi possono tranquillamente mantenerlo un vantaggio sin sul traguardo penso di sì perché adesso la CSC dovrà solamente controllare controllare perché Garatti attenzione dodicesimi in classifica ha un ritardo di 6.48 però cercheranno di tenere i fugitivi a 4-5 minuti per poi vedere di guadagnare secondi o minuti nell'ultima salita la cosa che posso dire è che Cunego e Simoni hanno messo tanta generosità tanta buona volontà ma non sono andati su molto veloci sta di fatto che i fugitivi non hanno perso non hanno perso molto e il fatto che Schleck e Zavrischi seppur bravi siano stati loro a riportarsi su Cunego e Simoni vuol dire che sono mancate un po' le gambe almeno in questa salita Silvio Martinello la tua analisi dell'ascesa verso il passo delle erbe e a questo punto parliamo anche delle possibilità dei battistrada qualcuno potrebbe risalire molte posizioni in classifica generale mi riferisco a Garate e a Caucchioli sì beh direi di sì che a questo punto ho visto con un vantaggio di quasi 6 minuti 5 minuti e 45 direi che qualcuno tra i coraggiosi attaccanti che sono partiti di buon mattino stia già facendo un pensierino al fatto di potercela fare e credo che qualcuno di loro potrà effettivamente ragionare e cominciare a pensare di poter vincere la tappa è chiaro che facendo un'analisi dell'ascesa che è stata appena compiuta al passo delle erbe condivido l'analisi fatta da Davide Simoni e Cunego coraggiosi però insomma sono stati contenuti e poi ripresi da Schleck e Zabrischi che con tutto il rispetto insomma non sono qui per vincere il Giro d'Italia e soprattutto davanti non hanno recuperato nulla nei confronti di quelli che sono in attacco fin dal mattino insomma quindi coraggio sì però effettivamente hanno fatto vedere hanno denotato che ancora manca qualcosa insomma difficilmente questo qualcosa lo si potrà trovare strada facendo soprattutto oggi dovranno naturalmente tentare di rifarsi nelle prossime giornate perché salite ce ne sono ancora perché non credo che la salita finale credo che la salita finale sia soprattutto adatta ad Ivan Basso e non a Gilberto Simoni e a Damiano Cunego che me lo vedo che me lo vedo protagonista e in qualche modo tentare se non a questo punto di andare a prendere quelli davanti perché probabilmente di stacco è troppo dilatato il vantaggio di chi è davanti ma tentare di staccare ancora i suoi avversari di letto in classifica coinvolgo la nostra guida alpina Flavio Moroder tratto in leggera salita abbiamo visto dopo il passo delle erbe c'è un altro sperone passo Eures salita molto breve però si è una salita abbastanza breve quello che magari più mi preme dire che prima abbiamo anche visto sullo sfondo abbiamo visto la bellissima cima del Sars di Putia dove ci sono tantissime anche bellissime pareti da rampicata e dove anche Reinhold Mesner ha lasciato la sua traccia diciamo Mesner sicuramente l'alpinista più famoso al mondo e tra pochissimo si entrerà nella Val di Sarco giusto? si adesso poi dal passo Eures ci sarà la discesa verso Bressanone e poi ci sarà da fare la Val di Sarco fino a Ponte Gardena dove e poi sarà dura di nuovo e da Ponte Gardena si è partiti da mezzo per ora alle ore 10 e 50 dopo 20 km ha preso in largo una fuga di una ventina di corridori sono rimasti adesso all'incirca una dozzina 12-13 atleti al comando ed hanno ancora un buonissimo vantaggio nei confronti del gruppo Magliarosa vantaggio di 5 minuti e 42 secondi ho l'impressione che qua davanti stia cominciando la corsa nella corsa quella cioè per la vittoria di tappa hanno una grande occasione a disposizione questi uomini proprio per questi ultimi 4.000 metri quasi tutti pianeggianti adesso c'è qualche attacco tra i fuggitivi abbiamo visto Belli abbiamo visto Garate adesso la strada sale tra poche centinaia di metri ritorna a salire verso il passo Eures che ormai è lì Vladimir Belli 28esimo in classifica 10 primi e 26 secondi il bergamasco della Val Brembana è al suo dodicesimo giro d'Italia un pioniere potremmo definirlo uno degli atleti più esperti in gruppo miglior piazzamento per lui al giro sesto nel 1997 e nel 1993 arrivò tredicesimo nel 93 per la prima volta il giro d'Italia affrontò questa salita dal versante opposto primo transitò l'americano Amstin e poi come abbiamo detto nel 94 affrontata la salita stesso versante di quest'anno la tappa che si concludeva Merano e vide il primo successo al giro d'Italia di Marco Pantani fu la famosa tappa quella del 94 dove prima Pascal Richard aggirò lo sciopero dei velocisti entrando in una cascina scavalcando una staccionata e ripartì passando per primo sul passo delle erbe quella una Pascal Richard che aveva la maglia verde che cercò l'attacco riuscì ad arginare la difesa dei velocisti Pascal Richard che fu raggiunto sull'ultimo campriolo dalla montagna e staccato da Pantani in discesa 12 km l'ora l'intensità del vento 18 gradi la temperatura umidità 35% condizioni ambientali ha già fatto vedere in piedi che ideali anche se tutto quello che gli può offrire la giornata che lo vede il protagonista ci sono tanti uomini molti di sole sono sulla salitella che porta al passo Eures mi sembra abbastanza tranquillo il corridore lussemburghese Frank Schleck e anche Ivan Basso mentre adesso Gilberto Simoni ha chiesto l'intervento della Miraglia una borraccia per lui è molto importante mangiare molto importante bere fa molto caldo la tappa è molto lunga e quindi bisogna alimentarsi nel modo corretto Alessandro Fabretti non sentiamo Alessandro quindi seguiamo dalle immagini questo tratto di gara passo Eures anche per il gruppo Maglia Rosa Aitor Gonzales lo vediamo di spalle non ce la fa più d'altronde era in fuga dal mattino un Aitor Gonzales che però potrebbe ritrovare la gamba in vista del Tour de France glielo auguriamo lui che l'anno scorso riuscì a vincere una tappa del Tour anche se non riuscì a fare classifica eccola qua la discesa del passo delle erbe siamo con i corridori in fuga e da segnalare la presenza di Pietro Cauchiori aveva cominciato molto male il Giro d'Italia questo veronese di Bovolone ma ci aspettavamo da un momento all'altro che potesse ritornare in gioco con un tentativo da lontano ricordo quando gareggiava con la formazione Alessio di Bruno Cenghialta mentre Savoldelli si sta sfilando in coda ma solamente per ricevere la borraccia dal suo direttore sportivo un Cauchiori che non se lo fa dire due volte quando deve recuperare qualcosa va all'attacco va in fuga ed è un fondista ha delle caratteristiche che paragonerei a quelle di V-Rank non va forte ma non va mai piano sei d'accordo? sono d'accordissimo è un corridore che fa sempre fatica nelle prime tappe al Giro d'Italia nel 2002 per esempio nella tappa con arrivo a Limone Piemonte arrivò con tre minuti di ritardo da Garzelli che poi fu squalificato il giorno dopo riuscì a recuperare cinque minuti grazie ad una fuga la tappa la tappa fu vinta da Lombardi e riuscì nella terza settimana a scalare nella terza settimana a scalare tante posizioni e arrivare terzo in classifica quindi è un po' un suo modo fatica all'inizio come quest'anno ma la generosità la grinta la forza gli permette poi di recuperare posizioni Silvio Martinello già da Zoldo Alto avevamo ritrovato un Cauchiori abbastanza competitivo oggi sta andando benissimo sì l'avevamo segnalato in lieve ripresa oggi con coraggio si è introdotto in questo gruppo che è partito da lontano mentre vediamo il replay di questa curva affrontata da Zabrischi e da Schleck con Ivan Basso a ruota direi un Pietro Cauchiori che sicuramente si ritrova alla condizione ideale quella che gli ha permesso qualche anno fa di arrivare sul podio addirittura del Giro d'Italia può far sì di diventare un corridore protagonista in questa ultima settimana molto dura tra l'altro che tappe come queste ce ne sono ancora molte quindi un Pietro Cauchiori sarà sicuramente un elemento importante per dare spettacolo in questa edizione del Giro approfitto della linea prima abbiamo fatto i ringraziamenti naturalmente a tutti i tecnici che permettono di far sì che queste bellissime immagini vadano in onda dobbiamo ringraziare anche per le riprese in movimento i punti mobili delle sedi dry di Torino e di Roma grazie a te la linea tornando a Cauchiori diciamo che non è nuovo a imprese del genere nel 2001 l'ottava tappa che si concludeva a Reggio Emilia andò in fuga dopo due chilometri ebbene quella tappa dopo 183 chilometri di fuga la vinse quindi ah me la ricordo bene anche quello era il tappone appenninico che ci fu poi l'attacco di Peresquapio Cauchiori lo prese lo superò e partendo dal via riuscì a vincere quella tappa era il 27 maggio del 2001 da Montecatini a Reggio Emilia a me viene in mente anche un giro della provincia di Lucca vinto da Cauchiori quando militava nell'amica Cips questa è la testa della corsa ripetiamo 12 uomini tra cui Garate Cauchiori Ruhano e Kessler più indietro Paolo Bettini adesso c'è questa lunghissima discesa che porterà la tappa a Pressanone pensate che dai 1863 metri di passo Eores bisognerà arrivare ai 559 di Pressanone quindi una bellissima e lunghissima discesa Alessandro Fabretti a te la linea non so se sarà bellissima sicuramente sarà lunghissima per il momento tanto tanto bella non è perché l'asfalto non è così piacevole anzi è molto polveroso ci sono diverse buche e c'è soprattutto molta polvere allora attenzione i corridori devono porre molta attenzione perché qui c'è il rischio caduto e sembra un po' rugoso questo asfalto d'altronde d'inverno qui le temperature scendono e l'asfalto si crepa Moroder si io penso che il problema sia specialmente in primavera quando diciamo il ghiaccio che si è infiltrato sull'asfalto comincia a sciogliersi e allora cominciano a fare queste crepe continui cambiamenti di temperatura i continui cambiamenti di temperatura poi si deve pensare che anche i chiodi da ghiaccio fanno la loro parte e anche magari i pneumatici invernali che non si usa solitamente in pianura ho detto bella perché nessuno attaccherà in questa discesa e dopo tanta salita qualsiasi discesa è bella solo per questo ho detto bella tira a lungo ed è sempre Ruhano a scandire il passo abbiamo un aggiornamento sul vantaggio del gruppo di testa Radio Corsa si abbiamo sempre il gruppo dei dodici al comando allora in seguimento troviamo sempre Rasmussen il 185 che viaggia intorno al minuto il terzetto con Bellotti Schaffrat e Paolo Bettini a 2 minuti e 42 secondi attorno ai 5 minuti in ritardo del gruppo Magliarosa ma lo stiamo ricronometrando adesso e ricordiamo che a Bressanone poi avremo il traguardo intergiro comunque Silvio siccome Radio Corsa difficilmente sbaglia i cronometraggi quando c'è stato lo scatto di Cunego e Simoni chi era davanti ha perso nel volgere di pochi chilometri quasi 3 minuti e poi hanno recuperato nel tratto finale quando Cunego e Simoni si erano resi conto di non poter più andarsene perché comunque la Magliarosa stava controllando agevolmente si sono rialzati e quindi i battistrada hanno acquisito nuovamente del margine questa è stata la sintesi diciamo del passo delle erbe sì sì la sintesi è chiaro insomma che poi a un certo punto Simoni e Cunego hanno deciso di mollare perché hanno visto che non riuscivano a prendere quel vantaggio che probabilmente speravano di riuscire a prendere è chiaro che insomma poi alla fine bisogna anche fare i conti con la molta strada che ancora manca all'arrivo e che il giro soprattutto non finisce questa sera c'è ancora una salita finale per arrivare qui ad Ortisei c'è ancora una tappa magari da tentare di vincere avevano fatto i loro calcoli e hanno preferito naturalmente rientrare nei ranghi e risparmiare energie ancora molto pimpante Juan Manuel Garat alla sua ruota Vladimir Belli transita l'altro uomo in maglia gialla Lobato poi Rujano Tiralongo eccolo qua Pietro Cauchioli ne abbiamo parlato lo vediamo alla divisa bianca e verde della Credit Agricol ancora un dentino siamo al pivio di plose e poi ancora discesa tra un po' oggi le pulsazioni sempre alte in salita Tiralongo è in fuga vedete 150 su 180 di massima molto bravo Lobato vedete vedete che Zabrisky controlla non attacca nessuno in questa discesa perché è molto lontana dal traguardo non conviene a nessuno e quindi ci saranno sempre al comando gli uomini della CSC poi qui è importante mangiare alimentarsi bisogna bere dal momento che oggi fa molto caldo e la sudorazione è molto elevata ci sono i due siciliani al comando Davide sia Tiralongo che Giampaolo Caruso vengono dallo stesso paese Avola dove c'è il celeberrimo Nero d'Avola un ottimo vino Tiralongo della Panaria e Caruso Gregario di Scarponi alla Liberty Seguros Caruso che abita in Spagna a Vittoria nei Paesi Baschi Tiralongo invece penso che abiti nel nord ad almeno San Salvatore provincia di Bergamo però come hai detto tu sono entrambi originari di Avola e sono in fuga ormai questi ragazzi eccolo qua Paolo Tiralongo da 160 chilometri con tutte queste salite è dura ci vuole coraggio ci vuole forza ci vuole grinta però per come si è messa la tappa alcuni di questi atleti può arrivare può vincere la tappa come è successo a Coldoghiel la settimana scorsa quando riuscì ad imporsi sul traguardo di Pistoia dopo una fuga lunghissima vorrei ribadire la presenza di Danilo Di Luca con Ivan Bass eccolo lì Danilo divisa bianca di capo classifica del Pro Tour che ha sostituito la Coppa del Mondo dal 2005 c'è anche Bruseghina alle spalle di Di Luca ma sebbene ce ne fosse stato bisogno oggi più che mai abbiamo avuto la conferma che Di Luca potrebbe un domani imporsi in una grande corsa a tappe Davide Cassani penso proprio di sì perché ha dimostrato una freschezza un recupero ottimale non penso che possa resistere fino a Milano ma anche oggi sul passo delle erbe non ha mai non ha ceduto di un centimetro anzi a un certo punto ha messo i compagni di squadra davanti a tirare quando c'era Bass un po' indietro poi quando si è accorto che Bass stava bene ha tirato i remi in barca e gli conviene segnalati a due minuti dalla testa al gruppo Magliarosa Orrak e Rasmussen anche Bettini come vedete non è più quello della prima settimana è a due minuti e trentotto secondi con Bellotti e Schaffer Bellotti compagno di squadra di Caucchioli i due veronesi affiliati alla Credit Agricola Alessandro ci sei? come si per fortuna è finita la discesa e dunque la strada è tornata bella adesso si e diversi corridori sono rientrati nel gruppo della Magliarosa quindi il gruppo della Magliarosa si è fatto adesso un pochino più abbondante saranno una quarantina i corridori si trenta quaranta e naturalmente come la strada torna a salire i corridori cercano nuovamente la loro ammiraglia questo drappello anche Unai Osa l'avevo intervistato prima della partenza da Reggio Calabria mi ha detto ho avuto dei guai fisici spero di migliorare soprattutto in vista della terza settimana ed eccolo qua Unai Osa della Isole Baleari salito sul podio al giro quattro anni fa ottimo scalatore ma da quel terzo posto non si hanno più ricordi nel senso che non è più riuscito a fare niente in questi ultimi anni suo fratello Aitor è riuscito a vincere un giro dei Paesi Baschi è riuscito a fare tante belle corse ma lui Unai era un po' scomparso oggi invece l'abbiamo visto lì davanti come ti aspetti il finale Silvio? Mi aspetto un finale con gli uomini CSC che tenteranno naturalmente di riportarsi più vicino ai fuggitivi ormai credo il distacco sufficiente perché qualcuno dei coraggiosi attaccanti possa tentare di vincere la tappa però mi aspetto che Ivan faccia la sua parte nel tentativo appunto di accumulare altro vantaggio nei confronti dei diretti avversari Mancano meno di 50 km all'arrivo gentili telespettatori dunque la situazione vede 11 uomini al comando il gruppo Maglia Rosa a 5 minuti e 30 secondi sigla giro all'arrivo poi saremo di nuovo con voi del giorno i corridori stanno scendendo adesso in maniera Rujano Cauchioli Belli Caruso Noè Valiavez Garate Lobato e Mattias Kessler l'andatura non durissima sul passo delle erbe ha fatto sì che i battistrada nonostante ci sia stata una perdita di qualche concorrente che era al comando inizialmente erano in 21 poi in 19 adesso sono rimasti in 11 ebbene i fuggitivi mantengono un vantaggio di 5 minuti sul gruppo Maglia Rosa sul passo delle erbe c'è stato uno scatto improvviso di Damiano Cunego alla cui ruota si era portato Gilberto Simoni ma i due della Lampre al massimo avevano acquisito un margine di 30 secondi su Ivan Basso il quale non si è lasciato prendere dal panico ha lasciato i suoi due gregari davanti Zabrinski e Schleck e alla fine si sono arresi Cunego e Simoni rialzandosi e facendosi raggiungere proprio in vista dello scollinamento mini spot per noi concorrenti non fanno più parte della carovana del giro non sono partiti da mezzo corona stamani diversi velocisti quali Ogredi Kirsten Kirsten McEwen Baden Cook e Wehrhauten anche Garzelli si è ritirato per un versamento di sangue a livello lombare causa la caduta rimediata nella tappa di Pistoia analisi mediche ieri sera radiografie anche un attacque per Stefano Garzelli hanno evidenziato questo problema e non era possibile per lui proseguire il giro d'Italia al trentesimo chilometro di Corsa si è ritirato Bertagnolli e poi successivamente anche il canadese Escedal Fertonani Ziegler Veneberg De Jong Ventoso e Belocchi Belocchi uomo di classifica al Tour de France ex 11 qui al giro era per aiutare Michele Scarponi ma non è mai stato competitivo non ce l'ha fatta non è più riuscito a recuperare la tappa di Pistoria dopo aver toccato la Val Dega la Val di Fasse e la Val Badia si è entrati in Val di Isarco questa è la discesa che porterà il gruppo verso Bressanone o Brixen se lo vogliamo pronunciare in tedesco quindi a Chiusa Ponte Gardena e lì comincerà l'ascesa finale verso Ortisei Alessandro Fabretti a te la linea grazie Auro ancora un buon pomeriggio da parte mia da parte di Mario Lubrano che guida la motocicletta tratto in discesa sono ancora col gruppo naturalmente della Maglia Rosa di Ivan Basso la strada adesso si è molto bella e i corridori viaggiano a una velocità di circa 65 km orari è un gruppo forte di una quarantina di unità li ho contati sono 38 mi sembra e quindi sono rientrati subito dopo il tratto del passo delle erbe diversi corridori proprio in discesa adesso ci avviciniamo a Bressanone dove anche noi metteremo benzina perché siamo in riserva quindi se non mi sentite più sapete il motivo ho finito la benzina hai saltato il rifornimento allora esattamente dopo 65 anni il Giro d'Italia ritorna a Ortisei mentre a Selva di Val Gardena per sei volte si sono concluse delle tappe Beccia vinse nell'83 Le Carreta nell'84 Hubert Seitz uno svizzero nell'85 poi nel 91 Lelli davanti a Bugno e Chiappucci nel 98 indimenticabile Tappone con Guerini su Pantani e Pantani che per la prima volta nella sua vita indossò la maglia rosa fu la tappa della crisi di Zulle anche te la ricordi molto bene Silvio quella tappa del 98 La ricordo benissimo perché facevo parte di quel gruppone di una cinquantina di concorrenti che arrivò fuori tempo massimo tra l'altro io ero in camera proprio con Guerini corravamo insieme alla Polti e lo ringraziai alla sera insomma per essere andato sufficientemente forte per averci mandato tutti a casa perché proprio non ne potevamo più E nel 2000 la vittoria di Rubiera su Simoni terzo Garzelli maglia rosa c'era casa grande vi possiamo ufficializzare che domani il Giro d'Italia affronterà il transito solamente ai mezzi accreditati i mezzi del Giro d'Italia quindi domani tappa dello Stelvio con partenza da Egna subito la salita una salita abbastanza impegnativa che porta a Frassinetto poi lo Stelvio poi Bormio poi un'altra salita il passo del Foscagno non è durissimo ma dopo lo Stelvio tutte le salite sono dure e poi la discesa che porta a Livigno altra tappa a fiume altra tappa di 210 km infatti la partenza domattina da Egna sarà alle 10 e 55 Flavio Moroder la guida alpina qui di Ortisei che ci ha accompagnato in telecronaca si sta passando per Sant'Andrea in monte questa è Val di Sarco piena verso Bressanone sì diciamo prima che i corridori in bocca non è la Val di Sarco è Sant'Andrea che ha i piedi la vecchia statale della Val Gardena sì sì da Ponte Gardena inizia la Val Gardena che porta su per il rio Gardena e arriva a Ortisei per il ladino il fiume che porta giù a Ponte Gardena si chiama Dorjong 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 perfetto 5 ore e mezza di gara ancora un'ora in bicicletta almeno eh sì poco più perché mancano una quarantina di chilometri ma gli ultimi 14 sono prevalentemente in salita e gli ultimi tre della salita verso Ortisei sono piuttosto complicati con pendenze che arrivano al 10-11% Davide sì sono i più difficili perché i primi sei sono abbastanza abbordabili le pendenze sono intorno al 5-6% ma quei tre chilometri sono davvero difficili questo tratto questa salita termina a 4 chilometri dal traguardo un Bettini in fuga sin dal mattino Silvio non è che stia spendendo troppo il ragazzo livornese ma lui non si è mai fatto questo tipo è un corridore coraggioso istintivo anche oggi ha tentato di anticipare un peccato che se non si è riuscito a tenere il ritmo dei migliori dei migliori del gruppo di cui faceva parte nella salita del passo delle erbe perché avrebbe potuto magari tentare di giocarsi la tappa anche lui e poi perderà anche l'occasione di guadagnare dei punti al passaggio dell'intergiro che è situato a Bressanone proprio alla fine della discesa del passo delle erbe quindi alla fine ancora poco meno di 50 alla conclusione cercheremo adesso di essere più precisi ho grande fatica però insomma da apprezzare da sottolineare l'impegno che Paolo mette sempre in ogni occasione sia quando ci siano le tappe in cui si arriva in volata perché l'abbiamo visto sprintare anche nelle ultime due occasioni sia Ravenna e sia Rovereto e anche quando invece il gioco si fa duro dove ci sono salite impegnative come quelle di oggi si mantiene sui 2.40 il ritardo di Bettini e Bellotti nei confronti degli 11 di test abbiamo un aggiornamento anche sul ritardo del gruppo Magliarosa professore si il ritardo del gruppo di Ivan Basso 5 minuti e 28 secondi da segnalare che in discesa Schaffrat si è leggermente attardato rispetto ai due compagni Bettini e Bellotti che sono avanti a lui infatti Schaffrat viaggia a 2.53 Bettini e Bellotti a 2.40 da Bressanone a Ponte Gardena ci sono oltre 15 chilometri ecco il motivo per cui un Paolo Savoldelli oggi non può adottare la tattica di Zoldo Alto dopo il Duran cominciava direttamente la salita verso Zoldo mentre qui a Bressanone ci sono 15 chilometri di pianura dunque anche se Savoldelli dovesse acquisire un vantaggio discreto poi verrebbe riassorbito quindi Savoldelli oggi dovrà restarsene tranquillo in gruppo ed è per questo che ero sicuro che non ci sarebbe stato nessun attacco in discesa avrebbero lasciato davanti gli uomini della CSC quei 18 chilometri pianeggianti avrebbero tarpato le ali a chiunque poi la discesa è molto bella mancano troppi chilometri al traguardo anche la salita nonostante fosse dura non ha fatto granché perché? perché tutti hanno avuto paura tutti ad eccezione di Cunigo e Simone Alessandro ci sei? sì per il momento sì tutto a posto non hai ancora trovato un distributore ma guarda sarà un distributore a questo punto lanciamo un appello ok siamo ormai in vista dell'intergiro dovrebbe essere ad un chilometro dal passaggio 5.12 non hanno guadagnato nulla rispetto al passaggio sul passo delle erbe gli inseguitori dovrebbero guadagnare qualcosa nel tratto finale quello pianeggiante perché Zabrisky soprattutto e Schleck in supporto potrebbero cercare di avvicinarsi ai fugitivi ma devono per forza farlo perché Garate è a 6.48 in classifica generale proprio per quello perché non è che possono dormire e stare tranquilli hanno fatto con un con un vantaggio simile Garate salirebbe in quarta posizione adesso è dodicesimo Cauchioli guadagnerebbe sette posizioni e andrebbe in quinta sesta posizione in classifica generale quindi anche altre squadre mi riferisco alla Liquigas visto che ha tre uomini dovrà collaborare anche se c'è Noè davanti però Noè lo lasciano passivo in fuga e dietro potrebbe potrebbe tirare non so chi perché c'è Cioni e Di Luca sono tutti due uomini di classifica non so se sia rientrato Mikoljevic ma non mi pare ed eccoci a Bressanone terminata la discesa Bressanone o Brixen il ladino si dice ah me l'ha detto Moroder ma non ho capito adesso glielo faremo dire a lui il ladino Bressanone allora il ladino si chiama Persnone con la P di Palermo Persnone eccolo qua l'intergiro c'è una specie di volata molto breve e tra questi non interessa nessuno il traguardo intergiro no anche se da 6 secondi di abbuono e presto avremo i passaggi ufficiali è partito il cronometro tratto in discesa per il lotone Magliarosa ma in mezzo c'è sempre il duo Bettini e Bellotti poi Horak Rasmussen oggi ha fatto un lavoro straordinario David Zabrinski lo conoscevamo come ottimo cronoman ha vinto la cronometro di Firenze ma è stato bravissimo anche in salita questo ragazzo che è nato come tu hai detto Auro a Salt Lake City abita in California quando è in America e a Gerona in Spagna quando è qui in Europa corridore con la maglia fucsia è Jan Schafrat che era nel drappello dei fuggitivi si è staccato però sul passo delle erbe adesso sta cercando di recuperare su Bettini e Bellotti è rimasto davanti invece il capitano della T-Mobile Mattias Kessler molto buona anche la sua prova Kessler non è nuovo a imprese del genere è un ragazzo che riesce a fare discrete classifiche nelle grandi corse a tappe niente di che però in un giro di Francia di qualche anno fa riuscì ad arrivare abbastanza bene ma penso intorno alla trentesima posizione molto meglio nelle corse di un giorno Vladimir Belli detto Belù per gli amici combattente io ricordo sul mortirolo Vladimir Belli la discesa andò a strisciare contro un muretto e scorri di Gino Bartali così come invece quella di domani la tappa dello Stelvio è un po' proprio la tappa del campionissimo avremo modo insomma di parlare dello Stelvio una salita dove proprio Fausto Coppio insomma scrisse nel 1953 una pagina leggendaria di ciclismo Ortisei è anche il centro principale della Val Gardena qui si parla il ladino nativi di Ortisei sono il noto compositore Giorgio Moroder ma soprattutto è cresciuto ad Ortisei Fiume Isarco che dà il nome all'omonima valle l'Isarco che attraversa Bressanone 30 km al traguardo già superati il controllo di Ivan Basso la ruota di Zabrinski Silvio i più e i meno finora di questa tappa ma i più e i meno direi che dobbiamo essere intanto grati a questi coraggiosi attaccanti che stanno vivacizzando la giornata direi che Caucchioli merita indubbiamente un voto oltre la sufficienza naturalmente se riuscisse ad ottenere anche un risultato positivo all'arrivo meriterebbe ampiamente un 8 a mio avviso Bettini anche lui è un bel 6 per il coraggio che tutti i giorni dimostra Simoni e Cunego direi oltre la sufficienza anche loro per il coraggio per l'intenzione Ivan Basso rimane rimane senza dubbio il corridore che sta guidando semplicemente la corsa la sta gestendo alla grande un bel 7 anche per lui perché sta facendo veramente le cose in modo egregio tutto naturalmente da verificare salendo fino a qui è chiaro che chi riuscirà ad ottenere anche il successo di tappa potrà anche migliorare il suo voto anche se le mie pagelle contano fino a un certo punto ha impressionato obiettivamente il controllo di Ivan Basso ha impressionato i telespettatori ma crediamo che abbia impressionato soprattutto Simoni e Cunego è stata molto bella la fiammata all'inizio della salita poi però sono rimasti lì è stata una fiammata ma si è spenta abbastanza presto Basso ha controllato tutti gli altri hanno avuto timore hanno avuto paura Savoldelli mi sembrava che stesse pedalando abbastanza bene anzi molto bene come del resto di Luca ma il traguardo era troppo lontano Savoldelli era da solo non aveva non ha compagni di squadra e quindi è costretto a correre sugli altri Basso invece è riuscito ad avere un paio di corridori che sinceramente mi hanno sorpreso per come sono e stanno andando testa della corsa eccoli qui gli undici uomini ormai al comando da 170 km c'è Tadej Valjavez andiamo a scoprirli tutti poi Ivan Parra il colombiano questo è sempre il gruppo di Bettini gruppo degli inseguitori è arrivato anche Schafrat sono in due della Sonia Duval Lobato questi Andrea Noè poi Vladimir Belli il Bergamasco Paolo Tiralongo siciliano della Panaria Mattias Kessler e più indietro l'altro siculo di Avola Caruso che risiede a Vittoria nei paesi baschi si allena spesso con Bellocchi zuccheri mancano non troppi chilometri e qui bisogna alimentarsi con sostanze zuccherine e adesso è partito il direttissimo per Ponte Gardena con Zabrischi che dovrebbe guadagnare questo gruppo grazie alle tirate di Zabrischi terreno nei confronti dei fuggitivi anche perché obiettivamente sull'ultima asperità Ivan Basso non avrà più bisogno dei compagni di squadra se ne avrà dovrà far tutto da solo si effetto siamo sempre sui battistrada si mettono Ruhano a tirare però perdono perdono secondi Davide abbiamo visto la situazione i fuggitivi poi gli inseguitori il gruppetto di Bettini Schaffrat e Bellotti e il gruppo Maglia Rosa e Maglia Bianca Bettini a bagnomaria ma non penso che vada molto lontano e infatti ci comunica Silvio Martinello che Paolo Bettini non tira più e presto verrà raggiunto dal gruppo Maglia Rosa le trenate di David Zabrischi a ruota il capo finora di questo Giro d'Italia Ivan Basso pubblicità per noi è la tredicesima tappa del Giro d'Italia una frazione molto dura che presentava cinque gran premi della montagna un dislivello di quasi cinquemila metri primo piano per Damiano Cunego che ha cercato di aiutare Gilberto Simoni lo scatto di Cunego sul passo delle erbe al secondo chilometro di salita Simoni che gli va a ruota Basso che non si è fatto prendere dal panico poi due della lampre raggiunti sulla vetta del passo delle erbe al comando ci sono i fuggitivi della prima ora li vediamo inquadrati Ivan Parra colombiano con lui il venezuelano Rufano poi Cauchioli Belli Caruso Noè Valliavez Garate Lobato Kessler e Paolo Tiralongo della Panaria ultimo cronometraggio quattro minuti e mezzo di vantaggio sul gruppo Maglia Rosa quindi potrebbe anche arrivare sin qui a Ortisei questo tentativo questa fuga che sembrava utopia all'inizio ma che con molta bravura i protagonisti hanno saputo interpretare e gestire Fabretti a te bene bene grazie rifornimento effettuato quindi siamo a posto solo con il gruppo della Maglia Rosa che adesso è entrato sulla statale non c'è il vento di ieri quindi per il momento anzi quasi totale assenza di vento gruppo sempre forte di una quarantina di unità c'è solo gli uomini della CSC davanti con Ivan Basso che controlla la situazione c'è un Danilo Di Luca che sta pedalando molto bene c'è un Damiano Cuneco che ha sempre alla sua ruota Gilberto Simoni e poi ci sono tutti gli altri velocità intorno ai 40 km in attesa dell'ultima salita poi si sta costeggiando l'Isarco vedete sulla sinistra anche l'autostrada del Trennero non c'è mai pianura guardate questa questa salitella sarà un mangia e bevi come si dice in gergo ormai siamo al duecentesimo chilometro di gare qualsiasi asperità fa male tutte intanto vedete il gruppetto di Bettini e Bellotti è stato raggiunto anche perché si sono rialzati non aveva nessun senso continuare Zabriski sta tenendo un ritmo molto molto elevato 4 minuti Silvio il vantaggio dei battistrada eh sì qualcuno di loro a mio avviso ce la farà perché davanti non dimentichiamolo ci sono dei corridori di fondo dei corridori che sanno andare in salita faccio dei nomi Noè Belli Cauquioli lo stesso Kessler direi corridori che sono in grado a mio avviso di tentare di resistere e di tentare naturalmente di andarsi a giocare la vittoria di tappa una vittoria di tappa in una delle giornate più belle e più importanti del giro mentre vediamo questo replay tra Bettini e Di Luca che si congratulano alla vicenda Bettini che ormai credo abbia esaurito le sue forze però sempre con il morale alto è un grande Bettini ma abbiamo notato che sin dall'inizio del giro c'è un ottimo accordo tra Bettini e Di Luca lo si è verificato nella tappa di Grosseto quando Di Luca era in maglia rosa e non ha ostacolato il traguardo intergiro a Bettini quindi Bettini è potuto arrivare in Toscana con il simbolo del primato ma poi si complimentano a vicenda c'è proprio un bel rapporto tra i due c'è rispetto tra due ottimi corridori eccoli lì Bettini che appena comincerà l'ultima salita si staccherà Di Luca invece che cercherà di tenere duro abbiamo visto pedalare molto bene sul passo delle erbe vedremo come si comporterà su quest'ultima salita maglia bianca per Danilo Di Luca fino a qualche anno fa al giro la maglia bianca individuava il miglior giovane è una divisa rimasta al Tour de France mentre qui al giro non c'è più la classifica giovane non viene più premiata a te Alessandro un pochino impressione vedere che in pratica sono rappresentate tutte le squadre nel gruppo della maglia rosa e quasi tutte con più di un elemento se pensiamo alla CSC tre elementi la lampreca fita quattro elementi la sesta Liquigas bianca i tre elementi la Liberty Wurt tre due elementi e Paolo Savoldelli è da solo letteralmente da solo e allora lui deve andare in ammiraglia a prendersi da mangiare da bere insomma ogni problema lo deve risolvere da solo e mi sembra anche che non abbia trovato grandi collaboratori in mezzo al gruppo non poteva mancare una delle gardenesi più celebri Isolde Kostner che è proprio di Ortisei anche la pattinatrice Carolina Kostner è di qui sta guardando la cartina Vladimir Belli vuole capire quanto manca all'inizio dell'ultima salita si sta controllando quanti chilometri ci sono ancora di pianura e quanti chilometri mancheranno da Ponte Gardena da quando comincerà l'ultima salita sarà battaglia Silvio sulla vecchia statale della Val Gardena ma a mio avviso si stanno rilassando un po' troppo davanti perché dietro c'è un veramente un locomotore che è Davide Zabrinski che sta recuperando secondo dopo secondo in modo inesorabile invece davanti se la stanno prendendo un po' comoda non vorrei che questo potesse costare a quelli tra di loro che hanno le capacità per andare in salita l'eventuale vittoria di tappa perché dietro stanno veramente sopraggiungendo alla grande sì cerchiamo di medesimarci anche nei battistrada con tutta la fatica che hanno fatto se ti spremi troppo in questo tratto poi resti senza benzina così come il nostro Alessandro sull'ultima salita quindi ci vuole gestione delle energie in questa fase e qualcuno cercherà di fare il furbo cercherà di stare a ruota e di sfruttare il lavoro di altri corridori Alessandro a te la considerazione beh sono stato smentito immediatamente perché appena ho terminato di parlare il vento ha cominciato ad alzarsi ed è naturalmente un vento contrario e questo chiaramente potrebbe creare non poche difficoltà al gruppetto dei positivi rispetto al gruppone che insieme e sculture e sculture della Val Gardena una tradizione che si protrae da quasi quattro secoli Ivan Basso potrebbe controllare potrebbe controllare potrebbe anche attaccare sull'ultima salita se guardiamo le moltipliche i rapporti di Ivan Basso come moltiplica più grande ha un 52 come moltiplica più piccola non ha un classico 39 ma un 36 lui dice che quando le salite sono più dure riesce a pedalare meglio e quindi usa la Compat e cioè con la moltiplica per la salita più piccola rispetto a tutti quelli a tutti gli altri come invece il rapporto più agile dietro ha un 11 come il rapporto più duro e un 23 come il rapporto più agile quindi il rapporto per la salita il più agile ha un 36 23 Alessandro sempre 25 concorrenti circa a comporre il gruppo Magliarosa no Auro nella discesa si erano riportati sul gruppetto della Magliarosa diversi corridori tra gli altri vediamo Alexander Kolov vediamo anche Mirko Celestino poi c'è ancora della della credita agricola c'è ancora Pollotti che è stato risucchiato e poi della della Raboba che è rientrato Elting che insomma è forte di una quarantina di unità il gruppetto della Magliarosa e lo vediamo dall'alto grazie per questa informazione alcune squadre tipo Liquigas e CSC sono ben rappresentate quindi condurranno un inseguimento serrato sino all'inizio della salita finale si sta passando per Chiusa dove c'è l'uscita autostradale e dove è stata creata la nuova strada che porta in Val Gardena Moroder si è vero diciamo prima era la tratta dove passava il vecchio treno della Val Gardena poi quando diciamo è stato messo in disuso il trenino allora anni dopo diciamo su per gli anni all'inizio degli anni 70 poi è stata costruita la nuova statale della Val Gardena prima si passava per Ponte Gardena la salita che viene fatta oggi dai ciclisti ancora 5 km di strada facile e poi la strada diventa difficile abbiamo un aggiornamento Radio Corsa sul vantaggio dei battistrada si sempre gli 11 al comando i due immediati inseguitori sono Orla che rasmussen a 1 minuto e 5 secondi gruppo Magliarosa a 3 minuti e 25 secondi viene aggiornato anche dalla grafica in questo momento e hanno recuperato più di un minuto Silvio eh si ma vedi davanti sono stanchi qualcuno si sta gestendo per tentare appunto di fare il risultato in questa tappa invece dietro ci sono due corridori da Brischi e Slack che invece stanno andando a tutta per tentare appunto di riportare il più vicino possibile Ivan Basso a chi è davanti insomma quindi ci sono due situazioni molto differenti con interessi diversi e questo fa sì appunto che il gruppo dietro il gruppo della Magliarosa possa recuperare ho l'impressione che nel gruppo dei fuggitivi quello che abbia più forze sia Garate Garate che ha ordinato a Lobato di dare tutto in questi ultimi chilometri pianeggianti Garate che è stato l'atleta a transitare per primo sul passo delle Erbe Garate che è arrivato quarto al Giro d'Italia del 2002 è arrivato decimo lo scorso anno dopo quel quarto posto al Giro d'Italia un problema un intervento al ginocchio in pratica ha perso tutta la stagione parlo del 2003 un Garate che può contare su un ottimo compagno di squadra Pietro Algeri il direttore sportivo della Sonia Duval probabilmente ha informato Garate che dietro stanno recuperando e anche tanto e sta sacrificando Lobato ed è lui che sta tirando in testa al gruppetto di testa da Ponte Gardena alla frazione Pontives ci saranno nove chilometri e trecento metri di salita ma il tratto più impegnativo saranno gli ultimi tre dal sesto al nono chilometro pendenze importanti intorno al dieci per cento Andrea Fusco è già pronto con i suoi ospiti nello studio del processo alla tappa a te Andrea sì allora gli ospiti sono per il momento ancora non tutti però ci sono già dei pronostici piuttosto interessanti è venuto tra l'altro a trovarci una voce storica del ciclismo Giacomo Santini che ha detto ce la faranno almeno in quattro ad arrivare al traguardo i fuggitivi per cui ci sarà un distacco rispetto al gruppo della Maglia Rosa è convinto di questo anche Luigi Sgarbozza che ha già indicato un vincitore caocchioli mentre Gianfranco Iosti del Corriere della Sera il decano dei giornalisti del giro ha detto che ce la farà Ivan Basso a recuperare i fuggitivi e poi lì per la vittoria finale sarà lotta con Simoni e Cunego a te Auro grazie ad Andrea Fusco rimanete sintonizzati gentili telespettatori sulla terza rete Rai che vi offre minuto per minuto questo appassionante giro d'Italia ascolti televisivi confortanti vorremmo dire esaltanti anche ieri in una tappa che presentava solamente solamente si fa per dire la volata di Alessandro Petacchi per il resto non era successo granché il 28% di Cher oltre 2 milioni e mezzo di telespettatori per la frazione che è finita a Rovereto e adesso aspettiamo di vedere qualche cosa in questa salita finale i corridori sono in bicicletta da tante ore e secondo me qualcuno potrebbe andare in crisi in questa salita finale vedremo se Basso cercherà di staccare Savoldelli e compagnia vedremo se Simoni è riuscito a risparmiare qualcosa dopo l'attacco sul Passo delle Erbe e vedremo se Cunego è riuscito a recuperare dalla crisi di Zoldo Alto chi non ha mai dato segni di cedimento e vale la pena ribadirlo se non avesse perso in maniera banale 43 secondi nella tappa di Frosinone Paolo Savoldelli sarebbe in maglia rosa un giro esemplare finora per il Falco Bergamasco Silvio indubbiamente Auro hai detto bene Paolo Savoldelli sta facendo un grandissimo giro quella l'imprevisto banale ma poi nemmeno più di tanto perché insomma lì a Frosinone in discesa poi tra l'altro lui è uno dei più grandi discesisti che c'è a questo giro uno dei più grandi direi del ciclismo moderno che si è fatto sorprendere in discesa ma questo capita direi che questo non toglie nulla all'esaltante giro che sta facendo auguriamoci che riesca a tenere perché anche lui è un protagonista importante il fatto forse che da un paio d'anni che non riesce più a correre ad alto livello a mio avviso potrebbe fargli mancare qualcosa nell'ultima settimana dove dove il fondo è importante però è un ragazzo che senza dubbio ha le qualità ha il carattere per poter far bene auguriamoci che possa mantenersi a questo livello anche nell'ultima settimana ci sono due uomini della Credit Agricola rompere i campi cambi proprio per favorire il tentativo di Cauchiolli sull'ultima salita si sono l'MVL mi sembra Halgan esperto corridore francese e abbiamo visto davanti Cauchiolli e qui i tifosi di Marzio Bruseguin e Belli il nostro Belli Paolo Belli mentre Vladimir e c'è Vladimir in fuga che ha vinto l'intergiro giusto a Bressanone davanti a Lobato e a Garate si ma lì non c'è stata neanche volata è stata una specie di volata c'è stato lo scattino di Belli negli ultimi 50 metri di Vladimir Belli non vorrei che la gente si confondesse con Paolo Belli e adesso pochi chilometri svolta a sinistra Ponte Gardena e questo e questo è la prefigurando l'alba pesa finale capisce perché è importante che la CSC rallenti un pochino esattamente adesso i 800 metri sono in discesa i primi 600 e poi leggerissima salita fino sulla linea del traguardo questo in seguimento perché così facendo rischiano rischiano di fare proprio il gioco di Savoldelli a meno che Ivan Basso sia talmente forte da poter fare possibilità eccolo qua ricordo una sua fuga al Gran Premio Liberazione quando era ancora dilettante sta sistemando il freno Ivan Basso mentre questi è Ruben Elvira Lobato che si sta sacrificando per il proprio capitano Juan Manuel Garate eccolo qua Pietro Cauchioli in 10 km hanno perso quasi 2 minuti poi si sono risvegliati e soprattutto grazie a Lobato il vantaggio non è sceso più di tanto sempre sui 3 minuti siamo sempre sui 3 minuti 3 minuti e 20 Silvio possibilità ma ora che Lobato naturalmente in appoggio al suo capitano Garate si è messo decisamente in testa riesce a mantenere il distacco su questi 3 minuti 3 minuti e 20 che potrebbero essere sufficienti ma chiaramente 5 erano meglio quindi non lo so tutto sta a capire cosa vorrà fare Ivan Basso che mi sembra l'uomo chiaramente nel gruppo di chi sta inseguendo colui che può decidere le sorti anche di questa tappa tutto sta a vedere cosa avrà intenzione di fare se vorrà tentare di aumentare il suo vantaggio in classifica rispetto a chi gli è vicino quindi Savoldelli Simoni Di Luca o se invece si accontenterà di rimanere con loro a quel punto ci potrebbero essere maggiori possibilità per chi è davanti quest'anno tra l'altro tra pochissimo inizieranno la salita finale altrimenti la vedo dura perché 3 minuti mi sembrano pochini per me qualcuno ce la fa perché corridori come Garate come Caucchioli come lo stesso Rujano ma ha speso molto nei campini della montagna Valiavec Valiavec un ottimo scalatore l'anno scorso è arrivato nonno in classifica generale al Giro d'Italia ci sono corridori questi che lasciargli 3 minuti in 9 chilometri di salita difficilmente possono essere riprese no no è vero 3 minuti sono tanti altrettanto vero che quando inizieranno la salita saranno in fuga da 200 chilometri 200 però Auro erano in 20 davanti ci sono corridori che hanno tirato molto poco e quindi la fatica si c'è ma ma secondo me hanno ancora la quel margine che gli permette di fare un po' di differenza in quest'ultima salita intanto Ivan Basso continua a ordinare a Schleck e a Zabrinski di tirare un lavoro enorme perfetto dei due gregari della maglia rosa Alessandro Fabretti a te la linea intanto tra gli altri era rientrato anche l'ingegner Pinotti della Sanier Duval che ha salutato anche le nostre telecamere e adesso siamo con il gruppo della maglia rosa a 15 chilometri dalla conclusione quindi fra un paio di chilometri comincerà no? la salita giusto? si hanno già cominciato i battistrali esatto e quindi tra un po' cominceranno anche i corridori che tu stai seguendo Basso sta sciogliendo la muscolatura mentre qui non c'è più niente da sciogliere perché la salita è già cominciata fa sul serio Rujano alla sua ruota Caucchioli ecco una cosa che si può far notare è che a volte non a volte spesso nell'ultima salita i corridori non riescono più a raggiungere le frequenze che raggiungono quando sono freschi quindi un corridore potrebbe anche staccarsi nonostante non rischia di arrivare più alle pulsazioni che lui riesce a raggiungere mini spot nuova Mazda 3 Hot aspettatevi di tutto anche di vederla all'ottantottesimo giro d'Italia la maglia di Domenico Pozzovivo il neoprofessionista della ceramica panaria c'è sempre anche scusate ovviamente tira lunga allora poi c'è anche naturalmente anche Tadej Balia il cartello nove chilometri al Gran Premio della Montagna l'ultima fatica di questo tappone dolomitico la tredicesima frazione del Giro d'Italia un controllo stretto autorevole assoluto per Ivan Basso dal ventesimo chilometro sono al comando questi atleti che vediamo davanti Tiralongo Parra Rujano Belli Caruso Noè Valiavez Garate Lobato e Kessler Lobato ha perso contatto dopo aver tirato per tutto il tratto pianeggiante da Bressanone a Ponte Gardena gruppo segnalato a tre minuti Fabretti a te e adesso stiamo passando anche noi sul ponte e quindi tra poco cominceremo la salita questo lottone direi molto nutrito ci saranno 40 corridori basso a due compagni di squadra ma di qui in avanti dovrà fare tutto da solo il tentativo di Pietro Cauchioli ma Garate si riporta in scia al corridore italiano dovrebbero essere loro due i corridori più forti Cauchioli che più che uno scatto ha cercato di tenere l'andatura alta perché può insieme a Garate guadagnare posizioni in classifica generale era convinto di poter tornare sul podio all'inizio del Giro d'Italia Pietro Cauchioli ci ha detto in un'intervista quest'anno non mi è capitato nulla di problematico e vorrei ringraziare i dirigenti della Cofidis che mi hanno dato fiducia il mio massimo ringraziamento sarebbe quello di fare un buon Giro d'Italia è partito male ma oggi è andato all'attacco e sta tenendo con con bravura Credit Agricole è capitano della Credit Agricole ho detto un'altra squadra Silvio si hai detto Cofidis ma è un capitano per un'informazione completa si si certo un lapsus comincia la salita anche per il gruppo Maglia Rosa dunque vedremo se ci saranno degli attacchi Savoldelli già alla ruota di Ivan Basso c'è anche Bruseguin parte Rujano quindi dovremo seguire in contemporanea due corse quella dei fuggitivi e quella del gruppo Maglia Rosa il venezuelano José Rujano Chien della Colombia Selle Italia ha degli scatti secchi pazzeschi Rujano parte benissimo poi a volte si pianta a volte no ma vedete Cauchiolli appena si accorge che nessuno reagisce lui che si porta immediatamente a ruota e adesso cerca di tenere l'andatura alta qui la salita non è ancora durissima stanno salendo a scatti forse sarebbe meglio andare regolari secondo me Garate sta dicendo a Cauchiolli siamo in classifica non ammazziamoci a vicenda per la vittoria di tappa cerchiamo di andare avanti ancora un po' Ivan Parra è uno uno dei pochi colombiani che vanno forte anche in pianura forte si fa per dire fratello di Fabio Parra terzo al Tour de France dell'88 progressione per Ivan Parra mentre con il monitor di servizio seguiamo quello che sta succedendo nel gruppo Maglia Rosa ecco Nazareno Balani ci fa vedere la coda del lottone Savoldelli a ruota di Ivan Basso poi c'è Emanuele Sella Danilo Di Luca ottima prestazione la sua poi c'è Domenico Pozzovivo anche Mazzanti è rientrato Damiano Cunego e Gilberto Simone Daniel Attienza corridore della Cofidis della Cofidis sono intanto due i corridori della ceramica e pannele a navigare presenti in questo 8 km e mezzo di salita Parra ha aiutato molto Rujano adesso prova ad andarsene da solo 8 secondi in suo margine a te Alessandro il lavoro di David Zabriski dunque Schleck avanti che sta tirando l'andatura che sale quindi CSC e Ivan Basso che probabilmente è stato preparando qualcosa sono in settima e ottava posizione Damiano Cunego e Gilberto Simoni Simoni deve recuperare a Ivan Basso 2 minuti e 27 secondi molto più indietro Damiano Cunego dopo la debacle sul passo Duran 7.20 da recuperare per il veronese tantissimi tifosi di Damiano Cunego presenti qui a Ortisei Damiano Cunego che si mantiene in quinta sesta posizione sempre sui pedali Ivan Basso invece sempre seduto e a noi sembra di rivedere l'ultimo Tour de France con Assevedo della formazione di Armstrong la US Postal che adesso si chiama Discovery Channel li a tirare a scremare Alessandro qualcuno si stacca? no per il momento no anche perché la salita è molto lieve adesso addirittura quasi pianeggiante e lì davanti ancora molto lieve intorno al 2-3% quindi impossibile però di attaccare quindi la vittoria di tappa se la giocheranno i fuggitivi e staremo a vedere se qualcuno riuscirà a scattare in questa salita non adesso perché come ci ha riferito Alessandro Fabretti qui le pendenze sono molto facili ma tra un po' Ivan Parra nato il 15 ottobre 1975 a Sogamoso un paesino della Colombia vicino a Duitama dove si sono svolti i campionati del mondo del 1995 quelli vinti da Olano si respira in questo tratto c'è anche Carpez vediamo l'atleta della Isole Baleari con Dario David Cioni torrenti della Val Gardena qui il gruppo va più piano addirittura si si qui stanno perdendo perché davanti secondo me vanno più veloci tentativo di Parra abbiamo un aggiornamento sul vantaggio del colombiano Radio Corsa Parra ha un vantaggio di 8 secondi su Ruiano Cauchioli Valiavec e Garate mentre gli altri componenti del plotoncino in fuga si sono via via staccati e siamo a 9 chilometri dall'arrivo ancora 5 chilometri di salita ecco chiederei adesso a Nazareno Balani per cortesia di far vedere il vantaggio di Parra una panoramica sugli immediati inseguitori un drappello nel quale c'è anche Pietro Cauchioli con Garate sono rispettivamente il quindicesimo e il dodicesimo in classifica generale nel caso di successo di questa fuga guadagneranno e guadagnerebbero posizioni in graduatoria eccoli qua Garate alla maglia gialla Cauchioli la divisa bianca e verde della Cofidis c'è Rujano che rimane a ruota dal momento che c'è il suo compagno davanti c'è Tadej Valliavez Tadej Valliavez che un giro d'Italia l'ha vinto ma era quello dei dilettanti è stato nel 1999 passato poi alla Passaportolo e dallo scorso anno alla Fonac questa squadra svizzera Francisco Vila Fabretti a te sì credo che Dacano Cunego e Gilberto Simoni abbiano mandato avanti Vila proprio perché l'andatura era troppo bassa quindi Vila c'è posto avanti e adesso l'andatura è un pochino più sostenuta sempre di tre minuti il vantaggio della testa della corsa sul gruppo Maglia Rosa quindi l'impressione di Davide Cassani era corretta non hanno guadagnato nulla gli inseguitori sui battistrada Basso sta controllando vedremo se la lampre ha voglia e forza di scattare di nuovo mi sembra che adesso Vila stia cercando di inventarsi qualcosa eccolo qua Francisco Vila atleta dei paesi baschi compagno di squadra di Cunego e Gilberto Simoni il tratto più impegnativo deve ancora arrivare vedete otto chilometri al traguardo ancora quattro di salita ce n'è uno abbastanza facile ma quelli che arriveranno dopo quei tre mila metri ecco quelli sono veramente duri penso che Parra potrebbe piantarsi in quel tratto impegnativo mentre Cautioli e Gerate penso di no se ci fosse un premio della combattività e c'è c'è un premio però indica le fughe da lontano al Tour de France esiste giornalmente quotidianamente il premio della combattività ebbene lo vincerebbero qui al giro quasi sempre i corridori di Gianni Savio anche oggi hanno infiammato hanno infiammato la corsa Silvio ah si anche oggi hanno infiammato la corsa e dall'inizio che lo fanno direi che tra l'altro adesso sono entrati anche nel loro terreno ideale mentre in testa al gruppo c'è Simoni che sta forzando che sta forzando i tempi nel tentativo appunto il Lampre Caffita abbiamo visto prima Viglia che è andato in testa appunto nel tentativo di isolare in Van Basso cioè di fargli perdere quei due preziosissimi compagni di squadra che hanno lavorato fino ad ora ora chiaramente Basso resterà molto probabilmente da solo dopo il grande lavoro dei suoi compagni di squadra e per il Lampre Caffita ci presenterà l'occasione ci avranno le gambe naturalmente per tentare di recuperare terreno adesso si è staccato anche Schleck quindi Ivan Basso è rimasto senza compagni di squadra c'è l'accelerazione di Gilberto Simoni sempre sull'impeto di Francisco Vila poi Ardila della formazione Davitamon con la maglia arancione Emanuele Sella poco più indietro Damiano Cunego e si intravede l'inconfondibile sagoma di Ivan Basso al suo fianco Scarponi e Gonciar e sempre dietro di lui come un'ombra Paolo Savoldelli Danilo Di Luca onnipresente grande corridore Danilo ecco adesso comincia la parte più difficile sono tre chilometri al dieci per cento Ivan Parra per lui dieci secondi non di più su Caucchioli Valjavez Garate e Ruhano dovrebbero arrivare adesso vedete che Valjave si è staccato mentre Caucchioli sembra il più sembra il più fresco insieme a Garate e qui le pendenze non scendono mai sotto il 9% Alessandro ci siamo a meno 8 km dalla conclusione sempre davanti Vila dietro dovrebbe trattarsi di Ardila quindi Gilberto Simoni Damiano Cunego e attenzione Emanuele Sella ancora due chilometri e mezzo non ce la fa più Parra è partito presto molto presto dovrebbe essere ripreso da qui a poco da questo terzetto il più generoso Caucchioli mentre qua è Vila compagno di squadra di Cunego e Simoni non ce l'ha fatta Valjavez quindi rimangono all'inseguimento di Parra Ruhano Caucchioli e Garate riesce a mantenere questi 50 metri ma di metri nei confronti del gruppo Magliarosa ne hanno circa 800 in salita vuol dire più di due minuti sì adesso guadagnerà molto il gruppo Magliarosa perché Villa sta facendo sul serio si sono staccati tanti corridori se ne staccheranno ancora di più tra un po' andiamo ad Alessandro raccontaci tutto in diretta è stato il forcing di Villa a mettere le prime vittime tra gli altri Guido Trentin della Confedis bravissimo che era nel gruppo dei migliori ma anche Aitor Gonzales che si è staccato comunque c'è ancora Steve Zampieri di davanti che fatica della Fonac per rimanere transitiamo davanti al cartello degli 8 km alla conclusione il ritmo mai è elevato però non siamo nel tratto duro ancora pendenza intorno al 2 3% tra poco la strada comincerà a far sul serio rimane a ruota di Gilberto Simoni Ivan Basso nel primo tratto di salita il gruppo ha perso molto adesso però dovrebbe recuperare qualcosa proprio perché il ritmo infatti vedete 4.32 hanno perso tantissimo nei primi chilometri dove c'era Schleck in prima posizione ma adesso potrebbe il gruppo dovrebbe guadagnare in questo ultimo tratto difficile di salita Garate Caucchioli e Rujano Venezuela Paesi Baschi è di Irun Garate e Bovolone provincia di Verona e adesso qualcuno dovrebbe muoversi inizia il tratto più impegnativo mi sembra che i Lampre siano intenzionati o Cunego o Simoni a piazzare un altro a fondo dalla sua Ivan Basso nel caso dovesse avere forza energia e voglia dovrebbe cercare di guadagnare qualcosa su Savoldelli perché è ancora lì vicinissimo in classifica generale Paolo Savoldelli chi ne ha deve scattare adesso perché qui la salita diventa proprio dura vedete che Simoni ha parlato con Cunego Simoni ha parlato con Cunego e se uno sta bene deve scattare in questo tratto San Pietro Valle ancora due chilometri di ascesa per Parra sembrava dovesse essere raggiunto da un momento all'altro e invece Parra resiste Samuel Sanchez corridore delle Euskaltelle Euskadi partito benissimo esce dal gruppo Maglia Rosa Ricordi alla Milano Sanremo sul Poggio Davide tre anni fa fece uno scatto come questo non andò molto lontano partito molto deciso adesso un pochino meno però vedete che è Osa mi sembra che si sia stia cercando di riportarsi sotto Fabretti a te qui c'è Damiano Cunego c'è Damiano Cunego che sta tirando probabilmente per Gilberto Simoni che attacca adesso parte Gilberto Simoni molto buona l'accelerazione del corridore di Paludigiovo Gilberto Simoni nuovamente all'attacco raggiunge facilmente Osa ho paura che Basso stia faticando mentre Savoltelli assolutamente no ho paura che Basso stia faticando ho paura non ho paura Basso in crisi attenzione Basso rimane affiancato a Damiano Cunego e non risponde all'affondo di Gilberto Simoni Alessandro a te è proprio così davanti a sé a Dario Daviccioni subito dietro a Tienza poi c'è Damiano Ivan Basso ti sentiamo male Alessandro l'unico a resistere allo scatto di Gilberto Simoni Paolo Savoldelli quindi vedremo adesso cosa riuscirà come riuscirà a reagire Ivan Basso Simoni e Savoldelli mentre Basso sta faticando molto in coda al gruppetto se avevamo qualche dubbio infatti i dubbi erano stati subito fugati su una mancata risposta di Basso allo scatto di Simone Cunego sul passo delle erbe adesso non è normale non può essere tattica non può essere scelta Ivan Basso non ha le forze per rispondere all'affondo di Gilberto Simoni ma da corridore esperto qual è l'importante che non vada in crisi psicologica a te Silvio sì invece davanti stiamo vedendo come Savoldelli stia dando i cambi regolari a Gilberto Simoni fiuta l'occasione un Ivan Basso che sorprendentemente lo vediamo in crisi sta tentando di salvarsi di gestirsi Damiano Cunelo lo marca stretto e davanti vedete invece Savoldelli che sta addirittura imprimendo in un terreno che non è il suo ideale appunto a Gilberto Simoni sta imprimendo l'andatura nel tentativo fiuta che può oggi conquistare la maglia rosa e capisce che è un momento importante mamma mia che fiammata di prima di Simoni poi di Savoldelli adesso si alza sui pedali anche Cunego Savoldelli addirittura riesce a guadagnare qualcosa su Gilberto Simoni tra Savoldelli e Basso in classifica generale ci sono soli 18 secondi a te Alessandro luce solo Algan Ivan Basso che non riesce assolutamente a tenere il passo di Gilberto Simoni e Paolo Savoldelli davanti a Dario Davicioni e subito più avanti Algan beh incredibile Ivan Basso che sta continuando a rimanere sui pedali e sta andando nel suo passo ma perdendo sicuramente secondi nei confronti di Gilberto Simoni e Paolo Savoldelli impressionante l'agilità di Savoldelli sembra di vedere il Savoldelli di Folgaria Passo Coe ma ancora di più Davide ancora di più e mentre Basso qui rischia di perdere tanto potrebbe perdere addirittura un minuto rimane a ruota di Ardila c'è anche Marcus Foten della Gerol Steiner non può più contare sull'aiuto dei propri compagni di squadra che avevano svolto un lavoro eccellente sia sul passo delle erbe che tra Bressanone e Ponte Gardena dunque adesso Basso deve ricorrere esclusivamente alle proprie energie per limitare i danni nei confronti di uno scatenato Paolo Savoldelli è partito Simoni Savoldelli non gli ha lasciato un metro e poi il Falco Bergamasco ha proseguito con un rapporto agile ma sicuramente incisivo Silvio Martinello veramente straordinaria l'azione di Savoldelli sinceramente mi sta sorprendendo Ivan Basso sta tentando di reagire lo vedete che sembra aver trovato una cadenza più consona alle sue possibilità si è messo in testa questo gruppettino con Ardila e con il numero 153 con Cioni che sembra anche lui in questo momento in grado si sta staccando Ivan Basso che sembra di aver avuto la possibilità di reagire e aver trovato una cadenza più redditizia mentre Savoldelli è scatenato Savoldelli ha già guadagnato 40 secondi su Ivan Basso chiediamo conferma ad Alessandro Fabretti Alessandro puoi fare da elastico in questo tratto e darci degli aggiornamenti in merito sì sicuramente intanto chiedo a Mario Lubrano di superare appunto Ivan Basso che ha dietro di sé solamente Ardila prego Mario davanti allora davanti c'è Culego ancora più davanti c'è Culego ancora più avanti c'è Danilo Di Luca e lì vedo Gilberto Simoni non vedo Paolo Savoldelli che probabilmente se n'è andato sì sì Savoldelli è davanti Savoldelli è davanti naturalmente parliamo di gruppo Maglia Rosa perché in fuga è una corsa nella corsa c'è sempre Parra che ormai ha terminato il tratto in salita e per il colombiano adesso ci saranno 4 chilometri prima di arrivare Ortisei sì bisognerà controllare il vantaggio vedete non ha un grosso vantaggio 15 secondi potrebbe essere sufficiente dal momento che dietro c'è un suo compagno di squadra Juano che dovrebbe rompere i cambi straordinaria la resistenza di Parra sembrava dovesse crollare da un momento all'altro ma ancor più straordinario è Paolo Savoldelli oggi che continua a rilanciare sempre sui pedali Paolo Savoldelli lo vediamo in questa immagine nel riquadro a sinistra perderà molto più di un minuto Alessandro a te per quanto concerne la lotta per la maglia rosa Paolo Savoldelli ha un vantaggio nei confronti di Gilberto Simoni di 15 secondi subito dietro c'è Danilo Di Luca a una ventina di metri non di più quindi a un'altra cinquantina di metri Manuele Sella poi Damiano Cunego quindi Sergei Gonchar poi c'è Marzio Brusegin Domenico Pozzovivo quindi c'è Sanchez e due Baleari quindi si tratta di Carpez e Unai Osa un giro d'Italia assolutamente entusiasmante sapevamo delle difficoltà che ci sarebbero state in questo weekend di salite ce ne saranno ancora tante e se Ivan Basso con Paolo Savoldelli sembravano i padroni del giro dopo Zoldo Alto adesso le carte si rimescolano ulteriormente un basso che non è stato in grado di rispondere agli attacchi prima di Gilberto Simoni e poi di Paolo Savoldelli se dovesse continuare così il Bergamasco vestirebbe al termine di questa tappa la maglia rosa e penso che ormai non gliela porti via nessuno la maglia rosa perché sta andando come un treno Paolo Savoldelli sta andando bene anche Gilberto Simoni non è riuscito a tenere il ritmo di Paolo Savoldelli e sta andando bene ancora una volta Danilo Di Luca qui naturalmente rendiamo omaggio al fuggitivo della prima ora questo Ivan Parra ma stacchiamo immediatamente su Paolo Savoldelli che ha un minuto adesso di vantaggio su Ivan Basso e potrebbe ulteriormente aumentare il proprio margine è a 500 metri dal Gran Premio della montagna Paolo Savoldelli Basso ha finito la benzina non ce la fa più vedete che il suo ritmo è veramente colpo di scena gentili telespettatori Silvio Martinello hai detto bene non ce l'aspettavamo assolutamente no non ce l'aspettavamo assolutamente sembrava Ivan Basso in grado di gestire facilmente la situazione ora in questo momento è effettivamente in seria difficoltà gli ha scattato in faccia letteralmente a Tienza che insomma con tutto il rispetto non è un corridore che è qui per vincere il giro e Ivan Basso in difficoltà adesso tra poco lo inquadreremo vedete che è molto pesante la sua pedalata mentre Comin continua ad essere molto efficace efficacissima la pedalata allo sforzo di Paolo Savoldelli che virtualmente è già da un pezzo in maglia rosa la crisi di Ivan Basso ancora mezzo chilometro di salita per lo scalatore di Cassano Magnago niente da fare quando le tappe sono lunghe e dure può succedere questo può succedere che nell'ultima salita vada in crisi chiunque oggi è andato Ivan Basso in crisi mentre vedete Savoldelli ha raggiunto tiralongo non riesce il corridore siciliano a stare nella scia di Savoldelli quindi la situazione parra poi all'inseguimento 12 secondi Rujano Garate Caucchioli a 1 e 12 Valliavez ma subito lì c'è Paolo Savoldelli il migliore tra gli uomini di classifica è vicino allo scolinamento ormai ha raggiunto la località di Pontives è a 4 chilometri al traguardo e uno straordinario Danilo Di Luca è riuscito a raggiungere Gilberto Simoni Savoldelli 3.55 da parra ma adesso staremo a vedere il ritardo di Di Luca e Simoni su Paolo Savoldelli non è tantissimo sono lì a circa 20 secondi Di Luca e Simoni sono transitati adesso una ventina di secondi per loro nei confronti di Paolo Savoldelli 23 secondi per la precisione ritardo di Di Luca e Simoni su Savoldelli a te Alessandro la tienza che ha lasciato dietro di sei Ivan Basso che ha una trentina di secondi da andiamo con Basso è rimasto Dario David Cioni anche per il secondo capitano della Liquigas Bianchi oggi una giornata non proprio positiva mentre è a un chilometro e cento Parra Ivan Parra una resistenza stoica per questo colombiano è transitato Basso 5 minuti in ritardo nei confronti di Parra si di Parra interessa ben poco ma è a 1.05 da Savoldelli 1.05 il ritardo di Basso da Paolo Savoldelli e qui potrebbe perdere altri 20 secondi vedremo se qualcuno riuscirà a dare manforte ad Ivan Basso vedete la fatica la smorfia di Ivan Basso in questi ultimi 4 chilometri il giro è cominciato a Zoldo Alto prosegue ricco di emozioni qui a Ortisei Parra un'impresa la sua se dovesse arrivare sino in centro eh sì ormai non lo becca più nessuno Parra strada Rezia ancora 200 metri di salita poi la picchiata verso il centro di Ortisei dunque Parra si avvia a conquistare questa tredicesima frazione è in bicicletta da oltre sei ore e mezzo ed è in fuga da 200 chilometri è riuscito a guadagnare ancora nei confronti degli inseguitori veramente bravo questo colombiano devono accontentarsi dell'appiazzamento anche se guadagneranno posizioni in classifica generale Garate Cauchioli e Ruhano strepitoso Parra ormai tutta di scena chilometri dalla vetta aveva gli inseguitori lì a pochi metri è riuscito a tenere duro e conquista la tappa Parra un colombiano a Ortisei nella sua scia l'autovettura del direttore di corsa Mauro Vegni le nostre motociclette il cambio ruote grandissimo Parra adesso aspetteremo il passaggio di Cauchioli Ruhano e Garate fa vedere una fotografia immaginiamo sia quella il suo familiare è tradizione per i colombiani rendere omaggio a qualcuno caro potrebbe essere anche un santino secondo Garate dunque 12 di a buono per il corridore dei paesi baschi terzo Ruhano quarto arriva Cauchioli ma seguiamo la cavalcata di Savoldelli addirittura staccato Simoni passo e di Luca in salita impressionante una facilità di pedalata e adesso la magna rosa sarà sua possiamo parlare di difficoltà di crisi ma non direi di cotta per Ivan Basso che comunque essendo andato essendo stato staccato a tre chilometri dalla vetta ha perso un minuto un minuto non è un'esagerazione è un cattivo segnale ma non si può dire per Basso una cotta tremenda adesso vedremo è la volta di Valjavez c'è sempre Foten con Basso un primo Noè intanto ha aspettato Danilo Di Luca per dar manforte al gruppettino nel quale c'è anche Gilberto Simoni Valjavez un minuto e 45 di ritardo per il corridore sloveno della Fonac mentre Paolo Savoldelli è a 1100 metri con Basso ci sono Cioni Samuel Sanchez Foten vediamo dall'elicottero quanto deve recuperare nei confronti di Savoldelli che ormai è all'ultimo chilometro ultimi mille metri per Paolo Savoldelli che tornerà in rosa a distanza di tre anni che soddisfazione per Paolo è riuscito a vincere la tappa di soldo e oggi un altro affondo che gli permette come tu hai detto di indossare la maglia rosa certo che se rimane a ruota di attienza Ivan Basso vuol dire che proprio non ne ha più a te Alessandro molto nei confronti di Danilo Di Luca che è esattamente a 80 metri da Paolo Savoldelli il resto stacca cerca di staccare addirittura Gilberto Simoni che Di Luca un Di Luca esemplare mentre arriva qui sul traguardo lo vediamo Kessler della T-Mobile questi corridori erano andati in fuga sin dal mattino resiste Simoni quanto devono recuperare Alessandro Savoldelli di Luca e Simoni 50-60 metri non di più eccoli là sono praticamente a ruota di Paolo Savoldelli qui l'immagine della telecamera non rende bene l'idea Savoldelli comunque doveva recuperare 18 secondi a Ivan Basso e questi 18 secondi saranno sicuramente di più dunque Savoldelli in rosa a Ortisei la risposta di un leone che risponde al nome di Danilo Di Luca staccato in salita è andato a riprendere Gilberto Simoni addirittura ha limitato i danni in questo durissimo finale arriva anche Gonciar e Vladimir Belli scusate Gonciar è ancora più indietro Savoldelli vediamo quanto guadagnerà è vicinissimo al traguardo Paolo Savoldelli arriva 3.59 da Parra poi è la volta di Gilberto Simoni dunque Savoldelli guadagna 7 secondi a Simoni e Danilo Di Luca non va più avanti 3.59 il ritardo di Savoldelli ha perso la maglia rosa ormai aritmeticamente Ivan Basso arriva Bruseguin Sella in questo gruppetto c'è anche Gonciar e c'è Damiano Cunego c'è anche Andrea Noè e Potto Vivo Domenico Pozzovivo 300 metri per Ivan Basso siamo a 50 secondi da Savoldelli un minuto adesso beh tutto sommato nell'ultima nell'ultimo tratto Ivan Basso non ha perso Gran Cree nei confronti di Savoldelli 1.08 1.08 quindi adesso tra Savoldelli e Basso in classifica ci sono 50 secondi nuova graduatoria Savoldelli maglia rosa Basso a 50 secondi Di Luca 53 Simoni a 2.16 Garate quinto a 2.39 caucchioli sesto 3.25 altro che tappa eccolo qua l'ordine di arrivo altro a te Alessandra De Stefano siamo accanto a Danilo Di Luca che tu hai definito Leone Danilo ma è incredibile Sì oggi sono stato molto bravo perché non ho sbagliato nulla la lezione dell'altro giorno sul Doran mi è servita sono andato regolare del mio passo e sono molto soddisfatto perché ho fatto una grande tappa sempre nelle prime posizioni e soprattutto sempre molto regolare quindi questo vuol dire che sto crescendo e che c'è il fondo anche per una grande forse tappa un Savoldelli così non se l'aspettava nessuno io me l'aspettavo perché Savoldelli va fortissimo l'avevo visto già l'altro giorno soprattutto scusa soprattutto l'ho visto oggi anche prima dell'ultima che andava molto molto facile giro ancora aperto sì giro ancora aperto e domani comunque è una tappa se mi salvo domani va bene grazie bene gentili telespettatori adesso avremo modo di analizzare di rivedere le fasi salienti di questa frazione dolomitica che ha visto il suo culmine qui a Ortisei Savoldelli è la nuova maglia rosa al secondo posto basso 50 secondi di ritardo terzo è Danilo Di Luca quarto Gilberto Simoni domani ci sarà lo Stelvio sua maestà Cimacoppi dunque siamo solo all'inizio grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione